Buongiorno a tutti, eccoci qua prima che sia notte, una mobilitazione non violenta dedicata sia al caso di Alfredo Cospito, l'anarchico che da anni si trova in carcere prima per aver gambizzato un dirigente di Ansaldo Nucleare, e poi con l'accusa di aver messo delle bombe carta che non hanno fatto vittima e non dovevano fare vittima davanti alla scuola di polizia di Fossombrone nel 2006. Per questo lui era stato condannato inizialmente a vent'anni ma in Cassazione si è deciso di giocare al rialto fino a chiedere l'ergastolo ostativo. cioè proprio l'ergastolo vero, quello fino alla fine dei tuoi giorni, quello senza sconti, senza permessi, senza possibilità di reinserimento, di riabilitazione, senza una vera pena di morte in vita, la pena perpetua. e addirittura lui per tanti anni in carcere era stato in alta sicurezza potendo usufruire di tutte quelle poche cose di cui possono usufruire i detenuti in alta sicurezza, ma anche qua si è deciso di giocare al rialzo e di trasferirlo al 41 bis. al 41 bis, che sappiamo tutti cos'è, era stato pensato come misura d'emergenza ai tempi della mafia stragista, ai tempi della morte di Falcone e Borsellino. Doveva essere una misura emergenziale per una guerra che c'era in corso tra lo Stato e la mafia e invece è rimasto. è rimasto nel nostro ordinamento, è stato in questo caso anche applicato ad un anarchico. Perché? Perché il 41 bis? Perché lui scriveva dal carcere magari lettere o contributi che venivano pubblicati su riviste anarchiche. Quindi se il 41 bis servirebbe per interrompere i legami tra i boss mafiosi e i loro sodali fuori dal carcere, con l'esterno, per impedirgli di comandare anche dal carcere, ad Alfredo si vuole impedire di comunicare le sue idee politiche anche dal carcere. Quindi proprio condannarlo al silenzio, al silenzio assoluto. In questa strana situazione in cui l'espressione delle idee politiche degli anarchici sono equiparati alla mafia. Cospito viene equiparato a un boss mafioso che comanda dal carcere i suoi sodali attraverso le comunicazioni, gli articoli politici che scriveva. Dal mio punto di vista è una cosa che è molto grave, che costituzionalmente a livello di Stato di diritto fa acqua. E così abbiamo organizzato questa maratona di dibattito, non solo su questo caso, perché non staremo qua 12 ore a parlare solo di Alfredo, ma in generale su... Aspetta, 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 aspetta. Aspetta! E su... Scusate, chiedo alle persone che si collegano di tenere spenti i microfoni perché sennò vi sentite sulla diretta. Su 41 bis e su ergastolo stativo. Perché per noi quelle contro 41 bis e contro il resto dello stativo sono battaglie di civiltà, sono battaglie di rispetto della Costituzione, di rispetto dei diritti umani, di rispetto dello Stato di diritto. Secondo noi in uno Stato di diritto vero non c'è spazio per pene che sono senza speranza, che non concepiscono l'idea della rieducazione, del reinserimento, che non abbiano una fine. E pene che addirittura, come il 41 bis, sfocino proprio nella tortura, che sono inumane e degradanti. Per noi per questo non c'è, non ci deve essere spazio e oggi più di 60 persone veramente trasversali che rappresentano tante associazioni come avvocati, giornalisti, politici, attivisti, volontari, sentiremo tante voci ex detenuti, tante voci diverse tra loro, tutte a dare il loro pensiero su 41 bis e ergastolo stativo. Dico qui anche quello che ho scritto in un post che sono stato costretto a fare per alcune polemiche veramente gratuite, insensate, che erano nate. Noi facciamo sempre questo tipo di iniziative, le abbiamo fatte per i mafiosi, per gli ingranghettisti, per i fascisti, veramente. E adesso le stiamo facendo per un anarchico. Il fatto che noi stiamo facendo questa cosa non vuol dire che noi siamo sodali delle idee anarchiche. Non è che per lui lo facciamo perché alla fine i fascisti ci stanno antipatici, i mafiosi anche, ma gli anarchici invece sono compagni che sbagliano, ci stanno simpatici, quindi Alfredo è uno di noi. No, Alfredo non è uno di noi, gli anarchici non sono nostri compagni. Io sono un magistrato, io credo nello Stato di diritto, io credo nella Costituzione, sono profondamente democratico. Gli anarchici non sono miei compagni, questa è una battaglia di principi per i diritti umani, è una battaglia democratica, non è una battaglia di sostegno agli anarchici. Questo è molto importante da chiarire. Con questo è una battaglia anche a difesa della vita di Alfredo Cospito, come abbiamo difeso la vita di Marcello Dell'Utri o di Totò Riina o di chiunque altro. sta vedendo violati i suoi diritti. Io passo subito la parola, ho già parlato fin troppo, al primo dei nostri relatori, il grandissimo Luigi Manconi, la sua storia parla per lui, è il presidente di A Buon Diritto, ha una storia di militanza lunghissima. Luigi, a te la parola e grazie di essere qua con noi. Grazie a nessuno Tocchi Caino per aver promosso questa iniziativa. Devo dire che la mia adesione è incondizionata, perché la vicenda di Alfredo Cospito, che seguo ormai da tre mesi e mezzo, è qualcosa che mi ha profondamente colpito. Per tante ragioni, intanto perché Egi si trova in una condizione assai particolare, in quanto condannato per una fattispecie penale, che si qualifica come, in primo luogo, strage contro la pubblica incolumità, poi strage contro la personalità dello Stato, nonostante che i fatti di cui Egi si è reso responsabile, non abbiano prodotto alcuna vittima, né morti né feriti, e abbia determinato dei danni materiali poco significativi. Tutteria, il nostro codice penale, prevede per questo fatti la possibilità di una condanna all'elgastolo. Non solo. Questa fattispecie penale porta con sé l'ostattività e ha portato la sottomissione di Alfredo Cospito al regime speciale di 41 bis. Con il suo sciopero della fame, Alfredo Cospito ha evidenziato la contradditturietà di queste misure. Cospito è stato per lunghi anni regime di alta sicurezza, ma questa condizione detentiva non è impedito che potesse godere di quelle garanzie e di quei diritti che sono comunque consigliati. di sodali e familiari di poter contribuire all'attività di associazioni da cui si sentiva vicino, persino di cooperare alla realizzazione di alcuni volumi. Tutto questo è stato dunque consentito fino a che bruscamente è stata interrotta questa sua possibilità attraverso la sottoposizione al regime di 41 bis. Conciò la sua condizione è praticamente cambiata ed è peggiorata in maniera acuta. Cospito si trova in una situazione particolare perché la socialità prevista dal nostro ordinamento non può essere soddisfatta in quanto evia occasionali relazioni con un solo detenuto, ripeto, rapporti occasionali diversamente da quanto è initialmente previsto e trascorre la sua ora d'aria in un cubicolo chiuso da muri assai alti in cui non è possibile guardare l'orizzonte, ma semplicemente cogliere un pezzo di cielo attraverso una gratta posta sul soffitto. E' stata interrotta la corrispondenza dall'esterno il che ha portato Cospito a sua volta a interrompere quella che egli stesso inviava ai suoi interlocutori esterni. Quindi si trova in una condizione particolarmente afflittiva, particolarmente pesante, particolarmente punitiva che a mio avviso si configura come extralegale perché, come già è stato ricordato, il regime di 41 bis ha una e una sola finalità, quella di interrompere le relazioni tra il detenuto e la criminalità esterna alla quale appartiene, o meglio apparterebbe. Tutte le altre effetti del regime di 41 bis, tutte quelle conseguenze che non perseguono lo scopo di interrompere le relazioni tra il detenuto e l'organizzazione criminale d'appartenenza, non sono permesse, sono arbitrarie, sono abusi che rendono la detenzione afflittiva, cosa che la norma non prevede. Tant'è vero che la formula che in genere si usa, anche la si usa praticamente sempre, quella di 41 bis come carcere duro, è una formula totalmente sbagliata. Il 41 bis non deve essere il carcere duro, il 41 bis deve essere quel regime detentivo che si limita a interrompere le relazioni tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza. Concludo, contro tutto questo, Alfredo Cospito ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. Ha iniziato a digiunare il 21 ottobre, la sua forma di azione non violenta prosegue, oggi è il 66esimo giorno e questo è il periodo che inizia a essere gravemente critico, perché nella storia del nostro sistema penitenziario si sono verificati anche in anni recenti dei decessi dovuti ai scioperi della fame. Scioperi della fame che diventavano critici portando alla morte del detenuto esattamente intorno a questo periodo, cioè dopo 65-70 giorni dall'inizio della forma di azione non violenta. Quindi c'è da essere molto preoccupati per la sorte di cospito. Tenete conto che è di Madrid o di 30 chili, nonostante sia persona di costituzione a serio gusto, di fisico notevole, un digiuno che ormai va avanti, come dicevo, da 60 giorni, in 66 giorni ha intaccato gravemente il suo organismo e quindi c'è da seguire con molta attenzione le prossime ore e i prossimi giorni per comprendere quale sbocco avrà questa sua azione. Voglio solo evidenziare un fatto. Come dicevo, lo scioperi iniziato 66 giorni fa, nell'arco di queste settimane ci sono state delle interrogazioni parlamentari promosse da vari deputati e senatori. C'è stata anche una risposta nel question time del ministro della giustizia, ma si è registrato anche la totale, mi correggo, la pressoché totale indifferenza della classe politica. Silenzio assoluto da parte di quello che è la stragrande maggioranza del Parlamento, silenzio assoluto anche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che è l'organismo amministrativo che ha la custodia del corpo di Alfredo Cospito. Quindi da questo organismo, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ci aspettiamo risposte, informazioni, misure e iniziative, perché il corpo di Alfredo Cospito che è nella custodia del DAP deve essere tutelato dallo Stato, dalle sue istituzioni, dai suoi parati, dai suoi uomini come un bene prezioso. Questo è il fondamento stesso dello Stato di diritto. Grazie dell'attenzione. Grazie infinito. Grazie. Io ringrazio tantissimo Luigi Manconi per questo prezioso intervento, per aver aderito e aperto la nostra iniziativa e lo saluto. Grazie Luigi. Adesso passo la parola al prossimo ospite. Diciamoci a un po' un passaggio di consegne, da un grande attivista, un passaggio generazionale, a un altro grande attivista della generazione successiva. Quindi io passo volentieri la parola a Cristian Raimo. Non mettere a paragone con Manconi veramente mi sembra quasi ingeneroso. E nel senso grazie, anzi molto generoso. Allora io riprendo alcune cose che sono state dette dall'ex senatore Manconi, che in qualche modo in questi anni è stato sicuramente una delle voci fondamentali rispetto allo Stato di diritto, soprattutto alla riflessione sullo Stato di diritto rispetto a quello che dicevo ultimamente, cioè allo Stato che deve prendere in custodia il corpo anche di chi è privato della libertà. Questo credo che sia fondamentale. In questa diretta ci sono persone che la pensano in maniera molto molto diversa da un punto di vista politico, che sono più che avversari in alcuni casi anche nemici, ma penso e sono molto contento che condividiamo con persone che hanno culture politiche opposte, in qualche modo avversari, in certi casi addirittura nemiche, l'idea che debba esistere comunque la tutela del corpo dell'accusato e del detenuto da parte dello Stato. Questa è una forma di educazione che chiaramente negli ultimi anni è mancata. Lo sciopero della fame di Cospito, tutta la vicenda di Cospito, ci dice quanto in qualche modo un'educazione allo Stato di diritto sia oggi sempre più una rarità nelle organizzazioni politiche, le cose che diceva Luigi Manconi sulla pressoché totale indifferenza da parte dei corpi politici rispetto a questa vicenda, cioè anche, come dire, nemmeno una risposta di nessun tipo, nel senso c'è una sorta di indifferenza, cioè l'idea che ci sia una persona al sessantasesimo sciopero della fame per una motivazione che molte persone, moltissime persone, qui ci siamo, insomma, non siamo pochi in queste settimane, in questi mesi, per fortuna, come dire, ci sono tante persone, non solo i compagni anarchici, ma insomma un dispiegamento di forze, di persone di vario tipo che ritengono questa motivazione, le condizioni in cui è detenuto Alfredo Cospito, io non ho ancora capito come si dice, insomma, comunque, così profondamente ingiuste, non hanno nemmeno intaccato una riflessione, cioè non c'è stata una dichiarazione da parte di parlamentari che dicono io penso che debba rimanere in carcere, non mi interessa nulla dello sciopero della fame, penso che gli anarchici debbano essere in qualche modo puniti, eccetera, eccetera, non c'è niente di tutto questo, quindi non c'è nemmeno, possiamo dire, accanimento, c'è un'indifferenza che è nei fatti accanimento. E su questo penso che ci debba essere una riflessione molto forte, perché è vero quello che dice Luigi Manconi, cioè in fondo questa battaglia la sta facendo da solo Cospito, nel senso che il suo corpo ce lo sta mettendo lui ed è per me veramente un esempio, io ne ho parlato a scuola, ho dovuto spiegare a scuola, come dire, qual è la storia dell'anarchia, la storia dell'anarchismo, che è una storia in realtà spesso di difesa di principi democratici e anche in questo caso lo è, quindi diciamo che più che un attacco allo Stato in questo momento le lotte paradossalmente di Alfredo Cospito sono, è una lotta per la difesa dello Stato di diritto, cioè dei fondamenti minimi democratici in un contesto in cui c'è un'indifferenza e una, e una vile, una vile, come dire, propaganda per tutto ciò che non è Stato di diritto. e sembra una vicenda appunto fuori dal tempo, fuori tempo massimo, è veramente incredibile come in questo momento ci sia stata una diseducazione sia in ambienti, diciamo, conservatori di destra, sia in ambienti, che possiamo dire, progressisti rispetto alle garanzie dello Stato di diritto. Il carcere è stato evocato come una misura che è andata molto al di là della riflessione sul penale, sulle condizioni penali. In questi anni appunto il manettismo è stata veramente la vera subcultura, incultura che ha infettato, diciamo, tutte le culture democratiche. Possiamo dire che è iniziata con Tangentopoli, possiamo dire che è iniziata con la crisi del 2008 e il grillismo, possiamo dedicare questa primogenitura di questa incultura manettara alle misure speciali degli anni 70. non sappiamo, diciamo, ci sono tanti padri, diciamo, poco nobili di questa subcultura, ma sappiamo che oggi questa subcultura è dominante, questa incultura è dominante. Io penso che quindi l'esempio di Alfredo Cospito, la solidarietà appunto, la solidarietà mi sembra, come dire, il minimo, ma il sostegno alla sua lotta, in qualunque forma, io spero che, come dire, per la sua vita, da una parte che appunto interrompa questo sciopero della fame, perché appunto sono chiaramente preoccupato per la sua vita, dall'altra parte appunto penso che questo sciopero sia giustissimo, cioè nel senso che mi sembra veramente un esempio che chiaramente mi viene da paragonare a persone appunto che hanno vissuto in regimi che ci sono sembrati appunto ed erano più autoritari, più repressivi, appunto, regimi turchi, regime irlandese, cioè chiaramente viene da paragonare questa sua vicenda a storie che appartengono appartengono a stati non democratici o a fasi non democratiche della storia dei paesi europei, extraeuropei. Quindi così, mi rendo conto che quindi è una doppia sconfitta. Dico quest'ultima cosa, come dire, da chi veramente pensa che questa sia una battaglia di prepolitica e politica al tempo stesso e mi viene in questi giorni una rabbia doppia, la dico un po' così e poi sono contento di passare la parola agli altri in questa lunga maratona, per fortuna siamo in tanti in questa lunga maratona, spero che, come dire, si ha una serie di cerchi concentrici che si allarghano e l'impotenza in qualche modo è doppia, perché da una parte è come se noi dovessimo sostenere un principio che ha due facce e sembra che queste due facce siano in contraddizione l'una con l'altra. Da una parte, come dire, l'idea che il conflitto e che quindi la possibilità di cambiare la società sia, e quindi anche di protestare, di scioperare, di mettersi in conflitto con la società, sia fondamentale, cioè sia qualcosa che dobbiamo tutelare. Quindi anche la rimendicazione di una lotta, anche la rimendicazione politica delle proprie idee da parte di Cospi e degli anarchici, è importante capirla. Cioè, questa cosa ha fatto parte della nostra storia, ha fatto parte della storia della nostra vita politica e quelle culture politiche, quel conflitto è fondamentale, è fondamentale. Cospi non vuole, come dire, un'indulgenza plenaria per i suoi atti, anzi li rivendica, anche, come dire, sapendo che quegli atti possono andare incontro delle sanzioni. Questo mi sembra, come dire, è parte fondamentale della democrazia e della politica. Dall'altra parte, appunto, le garanzie, le garanzie dell'umanità e della giustizia rispetto, appunto, al sistema penale. Prima Luigi Manconi diceva, giustamente disequivocava questo concetto di carcere duro rispetto al 41 bis. Ma a me sembra incredibile, poi, insomma, io sono un abolizionista radicale. In questi giorni, appunto, stiamo vedendo la follia di ragazzini che scappano dal carcere minorile del Beccaria dopo che qualche giorno prima c'era stato un pestaggio, uno stupro di gruppo nei confronti di un altro ragazzino. Cioè, tra le tante follie del carcere vediamo che, appunto, la follia del carcere minorile. Comunque, insomma, io sono un abolizionista radicale. Le cose che ha scritto Manconi, le cose che ha scritto Angela Davis e tutti gli abolizionisti, insomma, ci dovrebbero fare riflettere su, forse, l'obsolescenza sempre maggiore del carcere. Ma, diciamo, all'interno di questa cornice, ma anche all'esterno di questa cornice di riflessione generale sul carcere, ce n'è una che almeno, spero, sia più facilmente condivisibile, ed è quella dell'idea di carcere duro. Cioè, per me l'espressione carcere duro è un'espressione spreggevole. Il carcere, secondo me, non dovrebbe esistere, ma se deve esistere un carcere, secondo me, deve essere un carcere giusto. Cioè, nel senso, almeno possiamo essere d'accordo, come dire, col minimo, con Beccaria. Cioè, non esiste l'idea di carcere duro. Che senso ha il carcere duro? Il carcere non può essere mai che lo Stato, appunto, deve mostrare la sua durezza. Lo Stato deve sempre essere capace di dimostrare la sua giustizia, anche quando deve punire. Altrimenti, appunto, è veramente una maleducazione di massa. E quindi questa follia, follia veramente etica e cognitiva del carcere duro, o della giustizia dura, delle pene dure, per me sono, come dire, un'infezione, un'infezione al dibattito pubblico. Io faccio fatica a scuola a provare, appunto, che per fortuna è una delle poche infrastrutture cognitive, etiche, civili e politiche che sono rimaste in questo paese, dove si può avere un dibattito libero. Però, insomma, io insegno a scuola nelle superiori e chiaramente quando arrivo a un certo punto a introdurre le questioni del sistema penale, può essere perché ci arriviamo per Cesare Beccaria o perché ne discutiamo a partire da John Stuart Mill o perché, appunto, un caso di cronaca che mi porta a chiarire con i miei studenti cosa vogliono dire i tre gradi di processo, che cosa è la giustizia cautelativa, eccetera, eccetera. È chiaro che da una parte questi studenti, anche a 17-17 anni, vengono da, sono dei nativi manettari, come dire, vengono da un ventennio di deseducazione di massa rispetto al carcere. Non sono dei nativi digitali, sono dei nativi di un giustizialismo feroce e in alcuni casi vengono per la prima volta a scuola a contatto con una possibilità di riflettere su quegli stessi sistemi in un modo diverso. Dall'altra parte, però, e questo credo sia importante, e per questo la vicenda di Cospito credo che sia una vicenda esemplare e luminosa, dall'altra parte, però, si rendono perfettamente conto che quella storia dell'evoluzione dello Stato di diritto, dalla Magna Carta, dall'Abbia Scorpus, fino a Beccaria, e fino oggi alla riflessione che può venire fuori dal caso Cucchi o dal caso Aldovrandi, cioè dalle storie di ingiustizia penale molto, molto, insomma, pubbliche, che loro in qualche modo hanno intercettato. Beh, da parte di questi studenti c'è un desiderio di giustizia, cioè c'è appunto in tutti, in tutti, in tutti, ci tengono tutti che effettivamente possano condividere, proprio perché, come dire, nonostante siano stati maleducati per vent'anni, per tutta la loro vita, c'è però l'idea che questa, che si possa fare in un altro modo e che quindi, evidentemente, la giustizia è un principio che, per fortuna, come dire, è riconosciuto in una domanda etica e in una domanda politica che viene in qualunque consesso civile, politico, anche in quello studentesco è un consesso appunto informale e che quindi appunto vedono in questa vicenda non soltanto appunto l'estrema razio di un degrado civile, politico che ha vent'anni, ma anche appunto l'esempio di cosa si può fare quando una ingiustizia è talmente plateale che non ci si può mettere altro che il proprio corpo. Grazie infinita per questo intervento bellissimo che mette proprio a nudo le contraddizioni che ci sono nella nostra democrazia, nella nostra società. Io voglio anche approfittarne per ringraziare Lanfranco Caminiti, un caro amico che scrive sul dubbio perché questo evento ce l'ha suggerito lui a lui che ci ha chiesto, ma Umberto nemmeno ha fatto una cosa per Alfredo Cospito e noi l'abbiamo accolto volentieri ed è lui che ci ha dato il contatto di Cristian Raimo che noi volevamo coinvolgere e conosce Lanfranco. Quindi grazie Cristian e grazie Lanfranco. A garantisti, come dire, in questi anni siamo stati in una specie di setta che ci sentivamo in maniera un po' catacombale però per fortuna, come dire, poi questa rete un po' catacombale insomma ha funzionato. Grazie a voi davvero per questa iniziativa. Grazie. Adesso io passo la parola a un caro amico Riccardo Sindoca. Ve lo presento, è docente, scrittore, criminologo, già noto esperto ed operatore di intelligence anche per quanto riguarda il contrasto alle mafie nazionali e trasnazionali. Riccardo, a te la parola. Aspettate che c'è tutto di sottofondo che provo un attimo a staccare qualcuno forse ha l'audio attaccato e quindi... Sì, chiediamo a tutti la gentilezza di disattivare l'audio Ecco, di disattivare l'audio quando entrate Perfetto, a te Riccardo. Buongiorno a tutti. Grazie di avermi onorato di questo spazio in quello che voglio vivere come un momento di democrazia partecipata su temi che non possono che riguardare tutta la comunità. Sono stati per me molto belli e toccanti i due interventi che mi hanno preceduto perché mi lasciano purtroppo convinto di quello che è il vero problema che sta alla base un po' di tutto quello che oggi è il sistema giustizia e non può prescindere questo perché stiamo parlando di questo poi entreremo nel dettaglio della norma nel dettaglio costituzionale ma è la disattivazione da parte della politica. Premetto che io vorrei che il mio intervento sia un intervento propositivo, costruttivo come lo è lo spirito che ha animato oggi e che bene ha fatto Umberto a specificare questa agape, questo consesso così partecipato da, trasversalmente, da tutto quello che è lo scivile di coloro che partecipano alla vita del Paese, con l'informazione, gli esperti del mondo della comunicazione, della politica, del diritto e chi più ne ha più ne metto e che vede così anche la mia partecipazione. Oggi siamo qui perché un anarchico lancia un messaggio che cosa cerca come chi ha ben specificato e mi ha preceduto uno stato di diritto. Parliamo di argastolo stativo parliamo di pena ma andiamo un po' ad analizzare questa parte anche visto che riguarda non solo Cospito Cospito oggi è colui che al quale volgiamo e magari dobbiamo ringraziare per questo momento di democrazia partecipata ma abbiamo visto chi come me è cultore del diritto da anni l'evoluzione di quella che è questa parte giurisprudenziale. Abbiamo visto dall'esterno il richiamo un po' come Cospito lo sta facendo oggi ma anche dall'esterno in ambito di giurisprudenza dall'accedo un richiamo con la sentenza viola sulla fattispecie che stiamo guardando così come prima ancora senza bisogno di parlare di argastolo stativo sempre dall'esterno abbiamo avuto dei richiami con altra sentenza con la Torrigiani sui nostri sistemi. Ecco io mi domando questo noi abbiamo tutti gli strumenti per porre rimedio a quello che oggi è e io ritengo essere un medioevo di uno Stato di diritto ma soprattutto nell'attuazione dei diritti diritti che esistono non credo che non si possa coniugare l'esigenza importante come quella della sicurezza delle persone della comunità della società con il rispetto dei diritti. Questo si può fare e si deve fare si deve fare perché ne va proprio del prestigio di questa parola di questo sinonimo importante che è giustizia e mi domando come possa la politica l'espressione della democrazia rappresentata qui riguarda tutti noi non esprimersi su tematiche fondanti perché non ci scordiamo che come io spesso dico anche i miei studenti la giustizia è l'ossatura di un paese stato nazione senza se non si parte da queste tematiche non si può costruire nulla perché tutto dipende dalla giustizia l'economia è di parte integrante della giustizia se non funziona il sistema e l'apparato giustizia non potremo mai progredire culturalmente economicamente ed evolversi e evolversi ma io dico questa politica così attenta ai cambiamenti climatici alla tecnologia all'evoluzione ad attualizzare a parlare di società a 4G a 5G a tutto quello che vogliamo ma poi nella base nelle fondamenta siamo rimasti ancora molto lontani addirittura troppo lontani vedete tutti quanti noi parliamo dell'articolo 27 che è giusto ma dobbiamo fare attenzione anche a questo perché perché quando si parla dell'aspetto di rieducazione che deve contraddistinguere una pena si parla anche di rieducazione non solo di rieducazione e questo lascia ancora ampio spazio purtroppo a chi interpreta a seconda nel momento politico istituzionale quella che è la nostra costituzione ma l'articolo 27 dipende comunque dall'articolo 25 ovvero da chi ha potere a far sì che qualcosa cambi a far sì che ci si possa attualizzare perché tutto perché funzioni debba accalarsi anche nel momento storico che noi si vive come mai tanti suicidi la politica non può non rispondere a questo perché il diritto alla vita è fondamentale di una società che vuole anche pitetarsi e autoreferenziarsi come voluta e no questi non sono interrogativi che possono rimanere senza risposta da chi ne è deputato perché perché dico questo perché non possiamo demandare esclusivamente a un giudice di legittimità a un giudice costituzionale quello che è un problema di governance sociale perché poi abbiamo visto anche sentenze della corte costituzionale che sono state attaccate in campo politico e anche in seno alla magistratura stessa e allora io mi domando iniziamo a rimettere ordine ruolo e posizione chi legifera è il parlamento giustamente chi mi ha preceduto prima ha ben stigmatizzato non ci può essere il silenzio da parte del parlamento quando un qualcosa abbraccia la giustizia perché la giustizia sono le fondamenti e l'ossatura di uno stato paese nazione e allora io chiedo perché ci abbiamo tutti gli strumenti per poter far sì di attualizzare con le riforme previste nelle sedi all'uomo costituita previste richiamate proprio anche dall'articolo 25 della nostra costituzione e far sì che si possano coniugare le varie esigenze quelle della sicurezza di una comunità della società a quelle che poi sono i diritti fondamenti fondamentali delle persone signori un ristretto è una persona quella persona in sé è portatrice comunque di valori affettivi propri e terzi troppe volte scordiamo che il dramma di un recluso è il dramma anche di una famiglia intera io non voglio essere né buonista né giustizialista io voglio essere una persona quale cultore del diritto che si pone e pone delle domande e la domanda è questa gli strumenti ci sono perché nella nostra costituzione sono previsti ora bisogna avere il coraggio la giustizia non può mancare del coraggio come ha avuto coraggio ad aprire un barco importantissimo in questo momento quella che è stata e che è una corte costituzionale ha verso una tematica così delicata ma che va a impattare sui diritti fondamentali delle persone e allora chi è preposto a cogliere il momento lo colga ci traghetti la politica fuori da questo impast da questo da questo medioevo se parliamo di stato dei diritti se no di cosa parliamo qui vediamo diritti fondamentali tutti i giorni violati e calpestati non è un caso se non si parla di carcere in quella carta che è stato frutto oltretutto dei padri della costituente del sangue ci hanno donato questa magnifica carta e noi dobbiamo rispettarlo seguarla e usarla gli strumenti che ci sono ma dobbiamo avere il coraggio io sento parlare di governi tecnici di governi di responsabilità ma io mi auguro che arrivi anche il governo del coraggio riformare riformare non può prescindere il coraggio il coraggio è assunzione di responsabilità e la responsabilità è politica ma quando si parla di politica in una democrazia rappresentativa si parla di tutti noi ed ecco l'importanza dei consessi come quelli di oggi partecipati da autorevole persone da persone della comunità trasversale tutta che si fermano anche in giorni come questi vestibili ma riflettono riflettono sul diritto alla vita come può esserci uno stato di diritto che non si sofferma a pensare al diritto della vita siamo stati così bravi da bandire la pena di morte e poi accettiamo la morte per pena ma no io questo al di là di qualsivoglia ideologismo ideologia ma qui siamo ben oltre qui siamo tutti chiamati a riflettere perché si parla del diritto alla vita quella di cospito di questo corpo consegnato come tutti i corpi consegnati in mano allo stato lo stato siamo noi e non credo che tutti siamo così insensibili avverso il diritto alla vita poi per carità vanno abbattute anche le derive populiste basta basta abbiamo il coraggio della verità affrontiamo questi strumenti guardiamoli guardiamoli Umberto parlava di momenti emergenziali qualcuno parla di carcere duro ancora oggi quale fosse l'unico baluardo per contrastare la mafia o le mafie io le chiamo la mandraca spada mafia andrangheta camorra questo acronimo simpatico per comprendere un po' tutto quello che sarebbe lo scibile delle nostre mafie otto ma io dico andiamo a vedere questi momenti andiamoli pure a vedere ad analizzare anche perché ha influito molto il punto di riflessione quasi dogmatico su quello che sia il dovere di collaborare con la giustizia per poter accedere a dei benefici oppure in assenza di questa condizione assoluta non si può usufruire di quelli che sono dei benefici previsti dall'ordinamento ma anche qui io dico come posso prechiudere invece perché devo guardare la persona ripeto sempre andiamo a focalizzare quello che è il ristretto è una persona e nessuno è uguale può essere simile un altro ma non è uguale tant'è che è previsto in questo percorso di rieducazione che avvengano delle valutazioni ma perché il giudice di merito oltre di sorveglianza deve dire no è inammissibile questo perché non ha condizione a priori la collaborazione ma io mi sono trovato innanzi ad esaminare poi da criminologo degli aspetti e dico ma se questa persona ha seguito un percorso se questa persona ha voluto ricredersi ha lavorato su se stessa ha rielaborato determinate situazioni perché non collabora siamo così sicuri che la scelta di non collaborare sia perché una persona non voglia rescindere quello che ormai de facto è rescisso perché è ristretto a un 41 ma siamo così certi che arrivi da queste non magari dalla paura la paura è un diritto di tutelare se stesso e la famiglia lo Stato è in grado ha dimostrato sempre di essere restato in grado di proteggere colui che collaborava con la giustizia e i suoi affetti rispondetemi voi o mi risponderanno poi gli illustri e autorevoli colleghi che verranno dopo io da mio canto sono convinto di no anche l'uso poi di questo sistema che esisterò in un periodo e che poi ha proseguito che cosa ha sortito queste sono domande che dobbiamo per forza porci se tocchiamo argomenti delicati come questi ai tempi quando ai tempi delle stragi ai tempi in cui la mafia decise di dichiarare guerra con sistemi terroristici allo Stato è ovvio che si dovrebbero attuare leggi speciali anche perché ripeto quando andiamo a impattare su questo sistema andiamo a parlare della sicurezza della comunità sociale tutta come dicevo prima che riguarda anche il ministero degli interni non solo il ministero di giustizia ma tutto un tempo un perché causa ed effetto abbiamo visto che poi i processi e i tempi istruiti quando c'era ancora il giudice sottore hanno portato dei risultati a delle condanne poi confermate anche nei vari gradi di giudizio in Cassazione ma poi abbiamo visto che questo sistema che non è più stato rivisto ma anzi è stato implementato se vogliamo nell'applicazione dell'esecuzione perché abbiamo visto poi al 4 bis andare ad implementare le fattispecie di reatto a cui applicare l'ossatività e l'accesso a questi benefici per assurdo un bisolo urbano che se in tasca la mazzetta delle due o trecento euro viene anche lui assoggettato a quella che è la preclusione di determinati benefici al pari di una boss della mafia ecco ci sono tante cose che andrebbero riviste ma non sempre impegno signor che sono per rivedere le cose e per attualizzarle insomma certo che mi si venga a dire che il carcere duro abbia dato sì risultati avverso il contrasto del fenomeno mafioso datti alla mano statistici e formenti dal ministero stesso mi lascia mi lasciano dei dubbi poi mi confortino diversamente gli illustri che interverranno dopo di me senz'altro va tutto rivisto e va attualizzato ma ci sono le sedi previste e preposte io ho visto dei segnali partire da questo ministro questo ministro ha detto farò la riforma del codice penale ecco questo è già un passo importantissimo anche perché il codice rotto è stato rivisto per quello che era l'ordinamento penitenziario e la procedura ma per il resto è rimasto il codice penale insomma sì un pochettino riguardato in certi aspetti ma del 1930 ecco noi dobbiamo attualizzarci una società evoluta deve attualizzarci e queste sono tutte tematiche che non possono essere silenti la politica deve innanzitutto prendere coscienza che la giustizia non può andare nelle agende nei calendari come l'ultimo dell'interesse perché non porta magari i voti o perché questo può essere scomodo perché poi comunque può diventare un gribaldello all'incontrario perché abbiamo appena detto che dalla giustizia però dipendono che cosa anche tutti gli altri meccanismi perché ne dipende la credibilità delle istituzioni madre il rapporto fra il cittadino la credibilità fra il cittadino e le istituzioni non può prescindere dalla credibilità del sistema giustizia e questo è chiaro ecco questi sono i miei spunti generali di una riflessione a voce alta che ho voluto estendere a che ho avuto magari il piacere o non il piacere di ascoltarmi ma questo è il mio pensiero altro non vorrei far perdere o rubare tempo prezioso ad illustri che interverranno sicuramente molto più preparati di me questo è il mio pensiero da cultura del diritto da cittadino da padre e da persone che ha abbracciato un consesso come nessuno altro chiccaino e vive per la cultura del diritto e il rispetto dei diritti che non può prescindere lo stato di diritto io crederebbe più nulla da aggiungere grazie grazie Riccardo infinitamente per questo tuo contributo veramente importante perché hai detto cose secondo me molto importanti passiamo al nostro ospite successivo che è un bravissimo avvocato Sardo Ivano Iai a te la parola grazie anzitutto a Umberto Baccolo ed Elisa Torresin per questo invito un rinnovato invito ad essere tra voi e con voi per rappresentare pensieri che spesso coincidono spesso divergono però sono tutti animati da una luce che è quella che ho anche sentito dalle parole di Riccardo Sindoka cioè la luce della nostra costituzione delle nostre leggi ma aggiungerei anche della nostra umanità io ho cercato di comprendere quale potesse essere un intervento che avesse fosse idoneo ad inserirsi in un grande parterre de rois perché qui insomma si è detto ci sono tantissime persone illustri che interverranno e ho cercato in qualche misura di trovare qualcosa che potesse legare questa appunto questo intervento a una riflessione generale sul tema dell'ergastolo stativo astraendo il più possibile il contesto argomentativo dalla persona del detenuto cospito alla quale ovviamente va la solidarietà mia quella di tutti noi per ciò che subisce e mi sono reso conto che in realtà l'ergastolo stativo proprio questo sintagma è una contraddizione su tre piani un piano letterale un piano umano e il profilo giuridico qualcuno l'ho già anticipato tra coloro che mi hanno preceduto ma vorrei sviluppare questi argomenti il primo perché è una contraddizione sul piano letterale beh ergastolo viene dal greco ergazomai che significa lavorare operare ostativo è un termine che impedisce quello che invece il suo sostantivo che precede questo aggettivo predica e cioè appunto il lavoro e sappiamo che nell'ergastolo una delle misure alternative alla detenzione è proprio quella di essere ammessi come beneficio al lavoro all'esterno ve ne sono altri che sono benefici penitenziari di diverso genere taluni dei quali poi oggetto anche di pronunce della nostra corte costituzionale quindi il primo piano è un piano letterale mi chiedo come questa aberrazione e quindi questa contraddizione possa aver superato indenne le sentenze delle nostre corpi dei nostri tribunali e in particolare quella della corte di Cassazione anche perché per noi questo termine è entrato nel linguaggio comune e quindi in qualche misura lo utilizziamo proprio per definire qualcosa di specifico che impedisce a chi subisce una pena di poter avere dei benefici che invece sono riconosciuti a tutti coloro che subiscono una pena sul piano umano perché una contraddizione una contraddizione per la semplice ragione che nel nostro processo ma anche nella fase esecutiva della pena difficilmente troviamo l'ingresso di un grande concetto che fu sviluppato nel teatro del secondo secolo avanti Cristo che era il concetto di humanitas costituito da pietas gravitas dignitas nobilitas che ora perché l'umanità sconfitta con questo sintagma così contraddittorio argastolo stativo ce lo dice Socrate non c'è bisogno di andare molto lontani dalle nostre conoscenze liceali nel gorgia Socrate nel gorgia di Platone costringe uno dei filosofi che amavano metterlo in difficoltà a dire cos'è il vero bene e Socrate dice fa dire che chi compie il male altrui credendo di fare il proprio bene è in realtà un ignorante e va compatito questo profilo ovviamente serve a noi per far capire che è lo Stato che sbaglia con una pena che non ha nulla della sanzione prevista dall'articolo 27 terzo comma della Costituzione e ancora prima di quella prevista dall'articolo 13 penultimo comma della Costituzione perché non ha nulla perché è priva appunto di quella umanità che invece la nostra Costituzione imprime come elemento principale della sanzione penale nel gorgia appunto viene detto viene argomentato un principio importante lo Stato crede facendo il male del detenuto perché in realtà già la carcerazione lo si è detto è un male non può essere un bene la pena può essere un bene soprattutto quando è sbilanciata verso la parte rieducativa riabilitativa ma il carcere non può mai essere un bene ecco lo Stato che crede di fare il proprio bene cioè il bene della società facendo il male in realtà è uno Stato ignorante questa è una mia come dire rielaborazione per questi tempi sono molto legato ad una dottrina utopistica di fine ottocento tedesca che rappresentava un concetto che mi colpì tanto nelle prime lezioni di diritto penale ma che ovviamente riteni talmente inapplicabile per come siamo conformati fondamentalmente noi nelle nostre condizioni umane di soggetti che vivono negli stati che hanno più in animo la repressione che non invece la cura di coloro che si sono macchiati di delitti che suonava così e cioè a chi fa del male lo Stato deve fare il massimo del bene solo così si avrà davvero una restituzione di quella persona alla società e si avrà davvero una sanzione efficace secondo un principio che è quello che tutti conosciamo nella finalità general preventiva e special preventiva della pena nemo prudens unit qui a peccatum est sed ne pecedur e allora lo ha detto poco fa Riccardo quali sono i risultati che si ottengono da punizioni così severe il secondo aspetto il terzo aspetto su cui ritengo occorra riflettere non trascurando evidentemente ma è stato anche esposto dal collega che mi ha preceduto quello dei suicidi in carcere vedo che oggi tra i relatori vi è anche Mauro Palma il garante nazionale dei detenuti e lui potrà dire meglio anche per le dichiarazioni che leggo spesso sui quotidiani quale sia il livello allarmante di questa piaga che colpisce addirittura in maggioranza le persone che sono appena entrate nella struttura carceraria quindi prima ancora che abbiano in qualche misura potuto abituarsi a una struttura che dovrebbe anche tendere alla loro rieducazione quindi dicevo il terzo dei profili che ritengo debba essere esaminato come una contraddizione è quella della contraddizione sul piano giuridico noi abbiamo due articoli della Costituzione l'articolo 27 terzo comma e l'articolo 13 penultimo comma nessuno dei due ci richiama alla pena come pena repressiva se lo notate richiama anzitutto sia il 27 il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la Costituzione è maestra ci parla di umanità quell'umanità che non entra così spesso nei nostri processi e non entra così spesso nella fase esecutiva della pena è però anche se la parte finale di questo comma è un emistichio che dice devono tendere alla rieducazione del condannato il penultimo comma anche qui diciamo utilizzando una forma importante di rappresentazione della sanzione penale dice è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà e questi due articoli devono farci riflettere e devono farci riflettere in un senso noi viviamo in un contesto storico per cui ci sembra normale che l'ergastolo sia una pena condivisa dalla società però in questo contesto riteniamo che sia aberrante con gli occhi di oggi allora l'aver avuto la pena di morte probabilmente tra una cinquantina d'anni ci vergogneremo di aver avuto l'ergastolo nel nostro domenico che è in sé un trattamento disumano è un trattamento disumano perché lo dice l'articolo 13 penultimo comma della Costituzione dove si parla di violenza morale e anche fisica ovviamente sappiamo qual è l'interpretazione di questo comma dell'articolo 13 ma io ritengo che i nostri padri costituenti volessero far riferimento a qualcosa di più ampio la Costituzione non è un testo che non possa essere interpretato secondo il lume che ha segnato la strada di chi ha redatto il testo costituzionale e penso che vi fosse in animo dei nostri padri costituenti di guardare al futuro ovviamente con uno sguardo rivolto al passato anche con riferimento alle sanzioni penali i nostri padri costituenti io penso oggi si vergognerebbero che in questo ordinamento vi sia ancora una pena come l'ergastolo non voglio andare molto lontano ma Beccaria che poi oggi ritorna non soltanto per la lungimiranza che ebbe nel 1764 a pubblicare il suo celeberrimo pamflet e noi peraltro ricordiamo tanto suo nipote Alessandro Manzoni per carità io lo adoro ma non ricordiamo in modo altrettanto forte e intenso Cesare Beccaria suo nonno materno già al tempo Cesare Beccaria questo nome dicevo ricorre oggi anche per la vicenda dei sette ragazzi fuggiti dal carcere minorile e ebbe a scrivere delle parole che penso ci debbano far riflettere non tanto sull'attualità di quei concetti oggi ma quanto i nostri oggi siano così antichi rispetto al tempo in cui viviamo e cioè in particolare quello di del mantenimento di pene che sono assolutamente disumane e degradanti Beccaria diceva il fine delle pene non è tormentare ed affliggere un essere sensibile né di disfare un delitto già commesso non è altro che di impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali lo diceva chiedendo l'abolizione della pena di morte ed ebbe ragione con la stessa intensità la stessa forza noi dovremmo lottare per far abolire l'ergastolo e anche tutto quello il nucleo di pene che sono degradanti in sé e quindi contrarie al principio costituzionale ex articolo 13 penultimo comma e 27 terzo comma e mi piacerebbe un giorno qualcuno lo ha detto in apicibus che non esistessero più le case di reclusione ma le case di rieducazione nelle quali anche in una funzione preventiva dovremmo fare un passaggio tutti noi grazie grazie infinita all'avvocato Iai per questo bellissimo intervento grazie Ivano adesso entriamo nel vivo della questione giudiziaria di Alfredo Cospito e ringraziamo il suo avvocato Flavio Rossi Albertini per aver accolto il nostro invito e ringraziamo anche Sandra Berardi che ci ha messo in contatto Sandra poi farà un intervento anche lei avvocato mi sente? salve buongiorno si mi sento buongiorno grazie di essere qui con voi buongiorno e come ho avuto modo di apprezzare non vi sono domande per cui proverò a svolgere un ragionamento credo che la vicenda di Cospito sia stata abbondantemente trattata negli ultimi due mesi ovvero ci trova appunto imputato detenuto anarchico assolutamente determinato e convinto delle sue idee e su questo diciamo non c'è alcun margine di dubbio certamente soggetto che rivendica con forza tutto il suo patrimonio di vita tutte le sue esperienze soggetto che non è disposto alcuna collaborazione e a questo punto si pone il problema ma è sufficiente questo per sottocorre una persona al 41 bis teoricamente il dettato normativo farebbe propendere per una risposta negativa ovvero no tra l'altro l'importanza dello sciopero della fame che ormai sta svolgendo Cospito lo sta protraendo da oltre 60 giorni mostra del soggetto giusto per capire quali sono i termini effettivamente per non scadere nel pietismo per non scadere in termini che certamente sarebbero anche scarsamente apprezzati dallo stesso a mio giudizio sta esprimendo una profonda dignità una profonda fierezza una coerenza con le sue idee una profonda politicità del gesto perché Cospito non sta svolgendo uno sciopero della fame esclusivamente legato alla propria condizione detentiva e alla sua la prospettiva di poter subire una condanna per un ergassolo stativo ma in realtà sta facendo una battaglia che è contro l'ergassolo stativo contro l'ostatività della pena e contro il 41 bis tanto è vero che sta che ha deciso di protrarre questa sua iniziativa ben oltre la decisione del tribunale di sorveglianza che ahimè ci ha visto socconventi rispetto al rigetto del reclamo e quindi alla conferma del 41 bis questi sono alcuni aspetti che sui quali volevo un attimo soffermarmi perché non conoscendo inizialmente qual era anche il diciamo le persone i soggetti che sarebbero intervenuti dopo di me oggettivamente ho avuto una non nascondere di aver avuto qualche difficoltà quando mi sono imbattuto in alcuni nominativi che cozzano e contrastano non solo con l'identità politica di chi vi parla ma anche dell'umanità e della professionalità per cui penso di svolgere il mio lavoro ma anche certamente con la personalità e il profilo soggettivo del cospito stesso detto ciò siamo molto lieti che abbiate deciso di svolgere questa maratona questa maratona che appunto prende le mosse ma prescinde anche dalla figura del cospiro e pertanto anche per questo ritengo sia importante esprimere alcuni ragionamenti che riguarda due dispositivi che sono appunto quelli che forse Ann Arendt parlerebbe come banalità del male ovvero un qualche cosa che viene attuato in Italia da una molte esplicità di soggetti che ognuno compie una frazione della condotta e pertanto non riesce a comprendere anche la ricaduta del suo singolo gesto della sua singola azione nel ragionamento complessivo nell'esito complessivo di ciò a cui coopera però che è importante perché un autore ad esempio come Chapotoux un sociologo francese ritiene che sia la base del nazismo ovvero alla base del nazismo c'è proprio questo frazionamento perché ritiene questo autore storico francese in un libro dello scorso anno pubblicato in Italia che si chiama Nazismo e Management come si domanda proprio come sia possibile che vi siano dei dispositivi talmente violenti talmente violativi di qualsiasi profilo di umanità e come sia possibile che persone che non sono cattive come non lo era Eichmann forse no che lo ricordiamo tutti poi condannato a morte in Israele proprio per il contributo che diede allo sterminio ebreico da parte di nazisti è proprio del frazionamento delle condotte ovvero ognuno fa una parte una piccolissima parte della condotta un altro elemento che volevo ricordare partendo dall'esito diciamo dal racconto dagli interventi che mi hanno anticipato è quello che sia il Beccaria che il Berri parlavano che vi sarebbe più una necessità di prevenire la punizione una punizione umana è quella che previene più che quella che affligge ma per prevenire nel nostro caso non avviene nulla si è tanto parlato di battaglia alla macchia e della necessità di questo dispositivo del 41 bis per stroncare disarticolare il fenomeno mafioso ma poi appunto ricorrendo anche a Sciascia nessuno compie quegli interventi in natura preventiva che servirebbero ad eliminare la limpa al fenomeno mafioso pertanto si preferisce punire punire in maniera draconiana punire in maniera assolutamente violenta ciò a mio giudizio porta ragionamento sul funzionamento politico della penalità ovvero che cosa si tende che cosa si tende a fare con queste punizioni si potrebbe parlare anche di liturgia della punizione come di supplizio del corpo sono tutti categorie che potrebbero essere utilissime per comprendere effettivamente quello che sta avvenendo su cospito ma come su altri 749 esseri umani che sono sottoposti al 41 bis è uno spettacolo che potremmo definire lo spettacolo dell'eccesso dove uno stato uno stato dimostra la disimmetria delle forze in campo tra il singolo in questo caso il cospito addirittura il soggetto che si è macchiato del che viene ritenuto tale perché cospito viene punito più per una sua identità soggettiva che non per una offensività della condotta per cui si sposta completamente il piano e si elude completamente l'articolo 25,2 della costituzione non si punisce l'offensività della condotta si punisce il reo la sua soggettività la sua sotto questo punto di vista la sua posizione politica cospito è sicuramente un soggetto anato cospito non riconosce lo stato lo stato in questo modo con questo spettacolo dell'eccesso non fa altro che dimostrare dimostrare ma questo avveniva nel 6-700 sostanzialmente poi teoricamente all'epoca De Lumi aveva fatto in modo di relegare al passato di relegare al Medioevo questa modalità questo funzionamento politico della penalità appunto rimarta e dimostra che il reo che si macchia di questo tipo di reato che il condannato subisce sostanzialmente un supplizio dicevamo prima un supplizio del corpo è l'ostentazione tra l'altro anche il cospito ha avuto sicuramente il merito di non voglio rispondere Vittorio quello che chiami con sicuramente ha avuto ha avuto il merito ha avuto il merito il cospito quello di portare al pubblico cioè mostrare pubblicamente per cui far sì che attraverso il suo sciopero della fame ciò di cui ciò a cui viene sottoposto viene in qualche modo è stato mostrato a un pubblico a un pubblico che oramai sono trent'anni voi siete sicuramente tra i soggetti che più si sono battuti contro contro il quarantuno bis vi sono sicuramente sacchi di il senso che nel corso di questi trent'anni hanno preso la parola in Italia però sappiamo perfettamente che intorno a questo dispositivo intorno a una retorica dell'antimafia di questi strumenti eccezionali per combattere il fenomeno criminalità organizzata che ricordo sempre ritornando ai nostri patriilluministi in realtà si combatte con la prevenzione più che con la punizione se si vuole una pena dal volto umano beh il cospito ha avuto appunto il merito di ritornare in un dibattito pubblico in un'attualità del dibattito pubblico la questione del quarantuno bis questione che invece come dicevo era sottoposta a sostanzialmente una coltre di silenzio sul crimine sul crimine maiestatis commesso dal cospito lo abbiamo già ricordato sulla disimmetria delle forze in campo altrettanto c'è un'esasperazione del castigo sicuramente del cospito un'esasperazione del castigo e soprattutto una volontà come ricordavano alcuni interventi che mi hanno preceduto a una volontà di collaborazione a un'ostinata volontà attraverso questo supplizio a cui sono sottoposti detenuti di spingere a una collaborazione ma se poi ragioniamo che la collaborazione è in senso lato una confessione vedremo che questo dispositivo è lo stesso che di cui parlavano i nostri appunto illuministi lo stesso di cui parlava nella storia della colonna infame il nostro Manzoni ovvero questa violenza sul corpo che deve spingere a una confessione più il soggetto è ostinato nel non confessare probabilmente anche per una capacità fisica nel sopportare questa violenza a questo sottoposto più il torturatore diciamo il soggetto che realizza questo supplizio continua e persevera fino alla regina Tormettorum per cui al gioco della corda beh cospito questo in qualche modo ci restituisce ci restituisce grandi grandi questioni grandi domande grandi dilemmi i grandi ragionamenti che sui quali si sono soffermati i filosofi del diritto negli ultimi tre quattrocento anni che pensavamo effettivamente fosse tutto sommato alcune domande ormai avessero ottenuto una risposta e non fosse necessario nuovamente riprendere quegli argomenti rileggerli risoffermarsi rielaborarli ma evidentemente evidentemente appunto la penalità in Italia ha fatto grandi passi indietro grandi passi indietro fino a consentire che addirittura a un anarchico venga che per tacitare un anarchico per impedire a un anarchico di dire quello che pensa venisse esteso l'ambito applicativo di un 41 bis nato e pensato e ragionato intorno a un fenomeno certamente piramidale di criminalità organizzata di matrice stragista e che è un soggetto che non aveva non ha causato per la strage contro contro la sicurezza dello Stato così come gli è stata riqualificata dalla Suprema Corte di Cassazione non abbia in realtà commesso né diciamo determinato né il decesso di alcuno ma neanche il ferimento dello stesso pertanto siamo sicuramente a una sproporzione c'è una cerimonia nella punizione che accompagna la vicenda del cospito che è sicuramente singolare che speriamo che anche attraverso il contributo di questa lunga maratona possa essere spinto a una riflessione possa magari giungere anche al nostro ministro Don Ordio visto che alcune esternazioni compiute nei primi giorni le prime settimane del suo incarico potrebbero far pensare effettivamente a un'apertura di necessità di riflettere su come su dove stia andando effettivamente la giurisdizione penale ma proprio il funzionamento politico della penalità volevo concludere ricordando un altro autore che mi sembra importante sempre nel contributo che si può dare alla riflessione di questa maratona che è Pasten un altro autore francese che ragionando intorno al panpenalismo poi giunge per per soffermarsi per rimarcare la profonda matrice di classe e del nostro codice penale codice penale fascista ma non solo questo ma che sostanzialmente in carcere vi sono le classi sociali più debole che il sistema penale viene utilizzato per punire e magari anche per terrorizzare si parlava di effetto terrorizzante del diritto penale per terrorizzare una classe politica per ricondurla a più miti consigli o comunque per contenerne si parlava un tempo anche di eserciti industriali di riserva che veniva condotta nelle carceri non la faccio molto lunga sotto questo punto di vista però che è certamente sotto gli occhi di tutto che il nostro sistema penale tutto sommato mantiene tutto sommato mantiene un equilibrio qualora il soggetto reo sia un soggetto appartenente alle classi sociali inserite più più certamente interne all'assetto all'assetto del paese mentre invece individua delle forme di profonda disparità nel momento in cui i soggetti destinatari sono i soggetti sociali più deboli detto ciò vi saluto vi ringrazio per questo contributo che avete ritenuto di di voler offrire alla causa di Alfredo Cospiro che attualmente abbiamo depositato questa mattina ricorso per Cassazione ma prima di 5 o 6 mesi non pensiamo che la Cassazione si pronuncerà tempo assolutamente che mal si concilia con lo sciopero della fame dallo stesso intrapreso perché come sapete tutti e tutte uno sciopero della fame verosimilmente non ha alcuna chance di poter condurre il soggetto che lo potrai così nel tempo per 7 mesi è certamente un tempo eccessivo per cui non sappiamo come andrà a finire poi questa battaglia intrapresa dal Cospiro grazie ancora e vi auguro buon lavoro a tutti l'avvocato vi ringrazio tantissimo per aver accolto il nostro invito per aver fatto questo intervento noi non possiamo che sperare noi che vogliamo tutelare la vita del Fredo Cospiro che lui fermi questo sciopero che senta comunque il nostro senso di solidarietà umana di fratellanza anche noi siamo partiti abbiamo organizzato questo digiuno a staffetta per mostrare vicinanza e solidarietà e vogliamo sperare che gli arrivi un segnale di questa nostra attenzione e che lui si decida a sospenderlo perché lo sciopero della fame deve essere la vita non deve essere qualcosa che porta alla morte e noi speriamo che questo nostro messaggio gli arrivi adesso darei la parola a Caterina Calai l'avvocatessa che anche lei ha seguito Calia scusate l'avvocatessa Caterina Calia che anche lei ha seguito il caso di Alfredo Cospiro avvocata mi sente? sì sì sento buongiorno a tutti e tutte vabbè in realtà io non non ho seguito il caso di Alfredo Cospiro insomma sono una collega di studio di Flavio Rossi Albertini quindi conosco bene la vicenda però appunto è lui che si occupa effettivamente della difesa di Alfredo diciamo vabbè sto un po' in difficoltà dopo tanti interventi volevo porre l'attenzione sul fatto appunto tornando un pochino al 41 bis il 41 bis è strettamente legato al 4 bis e quindi ad una norma contenitore dove di volta in volta vengono inserite nuove figure di reatto e naturalmente in questi anni abbiamo potuto vedere come il 4 bis si è ampliato sempre di più e questo ci dà la misura di come il 41 bis sia una norma aperta che è funzionale al nostro nel nostro ordinamento e che consente un'estensione un'estensione che ha raggiunto il suo apice proprio con l'applicazione nei confronti di un anarchico quindi diciamo sappiamo tutti proprio per la concezione base insomma dell'anarchia quanto un anarchico non possa essere collocato all'interno di un reato associativo insomma tanto più Alfredo Pospito che ha sempre rivendicato il suo essere individualista nichilista insomma e quindi è lungi da lui il fatto di dover dare ordini o disposizioni quindi questa equiparazione con i reatti di mafia è veramente allucinante ma diciamo che questa equiparazione non nasce oggi e già da anni da 18 anni viene applicato il regime del 41 bis a tre detenuti politici appartenenti alle cosiddette nuove brigate rosse e questo ci dà la possibilità di affrontare il 41 bis da un altro punto di vista appunto si è costruito all'interno della società per quello che è stato riferito anche negli altri questa società che è diventata sempre più umanettara che chiede galera e carcere per tutti e chiaramente lo chiede a maggior ragione insomma cioè è stato costruito intorno alla questione mafia e mano mano invece si è andata allargando e quindi il passaggio che poi ha portato all'applicazione del 41 bis anche ad un anarchico è stato segnato dall'applicazione del 41 bis nei confronti di questi tre prigionieri prigionieri che appunto appartengono ad una organizzazione o sono appartenuti ad un'organizzazione che non esiste più da vent'anni e questo ci dà la misura del fatto che realmente quelle ragioni che hanno portato gli emergenziali che hanno portato nel 92 all'applicazione del 41 bis ci vediamo presto dai scusate sento delle voci in sottofondo Sandra chiudi il microfono appunto nonostante non ci sia più un'organizzazione quindi tutti i criteri fondanti del 41 bis che sarebbero quelli intanto delle ragioni di ordine e sicurezza che devono avere una attualità in più l'esistenza di un'organizzazione nel caso di questi tre militanti delle brigatte rosse viene applicato questo regime da 18 anni nonostante non ci sia più o nessuna emergenza terrorismo in questo paese non c'è nessuno che pratica la lotta armata ma possiamo dire che questo vale in qualche modo anche per i mafiosi non c'è più una guerra di mafia e quindi tutte quelle che erano norme e cosiddette emergenziali in realtà sono diventate ehm eh scusate mi sentite riprendo perché purtroppo ho il cellulare quindi ogni tanto arrivano le chiamate si la sentiamo mi cade la linea eh quindi dicevo appunto che il problema se è scollegato l'audio lo puoi riattivare se è scollegato l'audio eccolo qua ci siamo va bene eh ok attivo anche il video così forse magari mi potete fare un segno insomma che non eh quindi dicevo appunto c'è questa logica dell'amico nemico no che è diventato alla base di tutte le deroghe allo stato sociale di diritto e questo va assolutamente scardinato appunto perché non c'è più nessuna giustificazione oggi l'emergenza mafia è venuta meno non c'è un'emergenza terrorismo quindi di fatto il 41 bis sembra assumere tutt'altra funzione la funzione non può essere quella di applicare il 41 bis per piegare le persone ne ha parlato prima il collega insomma la finalità dell'applicazione del 41 bis nei confronti di un anarchico come Alfredo Pospito è naturalmente quella di piegarlo perché questo debba servire da esempio nei confronti di altri quindi quello slogan colpirne uno per educarne 100 è stato fatto proprio dallo stato e in qualche modo quindi c'è una torsione della norma del 41 bis perché appunto non esistono più le emergenze che hanno portato ora uno dovrebbe dire le emergenze non dovrebbero esistere mai basterebbero le norme comuni per garantire ordine e sicurezza e quindi il 41 bis non va applicato nemmeno alla persona al criminale più feroce perché trasforma praticamente anche il carnefice come si dice viene trasformato in questa maniera in vittima perché è un cioè un presidio il 41 bis che non cioè che ha soltanto la finalità dell'annientamento è un vero e proprio sistema di tortura basta che pensiamo a quelli che hanno avuto il 41 bis applicato nel 1992 e molti di questi quelli che non sono morti sono ancora in 41 bis per 30 anni non hanno potuto toccare la mano del proprio congiunto avere un abbraccio consolare i familiari come ricordava qualcuno in 41 bis non c'è soltanto il soggetto di cui si disconosce l'umanità ma ci sono tutti i familiari persone che per una vita intera non hanno potuto avere nessun contatto con i propri congiunti la questione del 41 bis applicato ai reati politici rende ancora più evidente la stortura di questo sistema perché non c'è una base familistica se aveva una sorta di giustificazione il fatto che il 41 bis venisse applicato ai reati di criminalità organizzata in quanto organizzati in un ambito territoriale e familiare di un certo tipo in cui il familiare poteva portare i messaggi all'esterno e questo può valere poteva avere una logica in un primo periodo tra l'altro perché le mafie fanno affari e le fanno le persone che sono fuori non prendono ordini da quelli che ormai sono dei cadaveri viventi insomma e che quindi non hanno più nessun potere per mandare avanti affari di quel genere insomma che sono il modo in cui opera la mafia ma questo risulta ancora più evidente appunto dicevo nella detenzione politica perché non c'entra nulla il vincolo familiare nessun prigioniero politico manderebbe un messaggio ad un'organizzazione se anche esistesse attraverso i familiari perché i familiari hanno idee spesso completamente diverse da quelle tant'è che per esempio nei primi anni di applicazione quando c'era ancora il tribunale territoriale competente ad esempio il tribunale di sorveglianza di Firenze non consentiva comunque alla Nadia Liocce ad esempio di effettuare due colloqui al mese anziché uno proprio perché riconosceva che la famiglia non poteva fungere da tramite allora il problema è perché viene applicato il 41 bis viene applicato il 41 bis non c'è un'organizzazione all'esterno non c'è nessun pericolo che vengano mandati ordine a qualcosa che non esiste ma viene mantenuto il presidio del 41 bis perché ha una funzione che è molto più ampia di quella che ci hanno detto fosse in origine e tutti hanno votato diciamo per il 41 bis la funzione è di deterrenza verso l'esterno cioè oggi gli anarchici ad esempio devono capire che se si pongono in essere determinate azioni si può finire in 41 bis e a tal fine viene utilizzato il costito allo stesso modo vengono utilizzate nei confronti cioè le manifestazioni di solidarietà ad esempio nei confronti di questi tre detenuti delle brigate rosse si dice chiaramente si riconosce chiaramente nello stesso decreto impositivo in cui si dice sì è vero in realtà è latente questa è silente questa organizzazione ma abbiamo visto che c'è un fenomeno carsico che potrebbe prima o poi riprendere perché e si dice anche perché potrebbe riprendere un conflitto sociale che conflitto sociale conflitto sociale e lotta armata intanto non sono esattamente la stessa cosa no? perché queste persone dovrebbero essere punite per quello che hanno fatto non per quello che pensano insomma e si criminalizzano addirittura le manifestazioni di solidarietà oggi ci potremmo ritrovare in un decreto successivo qualcuno che dice eh hanno fatto hanno organizzato una maratona verbale insomma in cui si parlava contro il 41 bis perché ad esempio nei confronti di questi tre prigionieri il decreto ministeriale dice esattamente questo ci sono le manifestazioni di solidarietà ci sono le lotte dei presidi davanti al carcere contro il 41 bis se noi togliessimo il 41 bis a questi soggetti si per quelli penserebbero i manifestanti penserebbero in qualche modo diciamo che la lotta paga quindi non sono queste le funzioni e le ragioni per cui può essere applicato il 41 bis il 41 bis andava applicato in presenza di quelle tre discriminanti intanto l'esistenza di ragioni attuali di sicurezza di ordine sicurezza che in questo caso non ci sono l'esistenza di un'organizzazione all'esterno che non c'è la capacità di mantenere rapporti con quest'organizzazione di appartenenza cosa che appunto per questo genere di prigionieri di detenuti non è possibile perché è storicamente dato fin dagli anni 80 dei primi anni 80 che anche le organizzazioni combattenti all'epoca nei primi anni 80 avevano capito che c'era era proprio un pericolo per la sopravvivenza di chi mandava avanti determinate modalità di lotta insomma in quel caso di lotta armata che il vulnus era proprio nel rapporto con l'interno del carcere per cui l'organizzazione se anche ci fosse stata fuori avrebbe sarebbe andata avanti per la sua strada mentre le persone arrestate sarebbero state a tutti gli effetti degli ostaggi senza nessun rapporto con chi stava all'esterno ma oggi noi abbiamo il paradosso che non c'è e non c'è nessuna organizzazione armata e viene comunque applicato e mantenuto il 41 bis da 18 anni questo appunto la dice lunga sul fatto che non c'è nessuna emergenza non c'è neanche dal punto di vista della mafia oggi l'emergenza ma il 41 bis è un presidio intoccabile che è diventato definitivo nonostante le pronunce anche della corte costituzionale dell'accedo che è vero l'hanno dichiarato legittimo ma l'hanno dichiarato legittimo proprio perché era legato nella sua versione iniziale ad una supposta o reale che poi è diventata supposta emergenza oggi è venuto meno tutto questo ma il 41 bis anziché restringersi si allarga sempre di più tant'è che nel periodo più alto della lotta della mafia contro lo stato avevamo alcune centinaia di detenuti in 41 bis oggi ne abbiamo 750 io ricordo quando mi occupavo ho iniziato a occuparmi del 41 bis negli anni 90 c'era un'unica donna in 41 bis oggi ce ne sono almeno 15 quindi ecco io credo che va fatta una riflessione sul fatto che intanto il 41 bis non è una norma modificabile il 41 bis è una norma che va abolita perché appunto serve esclusivamente come vessazione nei confronti di persone che non sono più considerate persone lo stato attua una sorta di vendetta verso quelli che non considera più cittadini comunque che hanno i loro diritti insomma diritti che devono essere garantiti a tutti ma li considera nemici e quindi come nemici applica una sorta di diritto bellico questo è diventato attualmente il 41 bis io chiudo qua perché mi sembra che si è anche un pochino in ritardo Alfredo Cospito sicuramente ha il merito di aver di aver posto questo tema all'attualità oggi si sta parlando non più tra i pochissimi addetti ai lavori ma si comincia a parlare di 41 bis in un modo molto più diffuso certo ad un prezzo altissimo una persona che ha dovuto mettere appunto la propria esistenza che però cioè una scelta anche ponderata per il fatto che è entrato in quella tomba del 41 bis Alfredo ha potuto vedere effettivamente che cos'è il 41 bis il fatto che ci sono persone che sono ormai completamente annientate e allora la posta in gioco era vivere in questo modo senza poter appunto mantenere una fotografia dei propri cari in cella che cosa c'entra questo con questioni di ordine e sicurezza perché deve essere certificato che quelli sono i genitori ma se anche fosse Carlos o il peggior terrorista di questo mondo che cosa c'entra una fotografia con motivi di ordine e sicurezza e sappiamo bene tutti quali sono le vessazioni quali sono stati fino a poco tempo fa anche il divietto di cucinare di scambiare piccoli oggetti cioè togliere anche ogni forma di solidarietà addirittura arrivare a sanzionare il saluto se un detenuto in 41 bis si permette di dire ciao buongiorno ad un altro detenuto incontrato anche in un corridoio viene sanzionato con 15 giorni di isolamento se non ha se quel soggetto non appartiene allo stesso gruppo di socialità gruppi di socialità che in realtà cioè una socialità che non esiste perché costruiscono gruppi in cui magari c'è uno che non esce mai dalla cella uno che ha problemi psichici e non riesce a parlare quindi al massimo sono due persone che magari non hanno neanche nulla in comune da condividere e questo però lo Stato si considera Stato di diritto perché consente ad un detenuto di incontrarne un altro con cui non ha nulla in comune e davvero poco da scambiare vi ringrazio per questo per questa opportunità e per questo lavoro che avete svolto e messo in piedi un saluto grazie infinite la ringraziamo tantissimo per questo intervento straordinario adesso passerei la parola ad Andrea Colombo firma storica del manifesto saggista giornalista Andrea ci senti? Andrea? ci vediamo Andrea di attivare l'audio vi sentite? ci sentiamo eccoci qua non ti vediamo però ti sentiamo mi dovreste vedere vabbè non so perché non è attivato vabbè e guarda io non ho moltissime cose da dire perché se riesco ad attivare una cosa attiva video perché la cosa è così enorme da creare perlomeno a me ha creato una domanda non tanto sull'enormità ma su come sia possibile che ci sia una reazione così scarsa così limitata non parlo di voi naturalmente o delle iniziative di movimento ma diciamo il mainstream ha iniziato a occuparsene solo per lo sciopero della fame e anche quando se ne occupa per lo sciopero della fame lo fa in un modo diciamo noi abbiamo visto la cosa è stata la reazione per esempio alla proposta di inserire nella finanziaria lo scudo penale per gli evasori quella reazione incide costringe a reagire a cambiare le leggi ora reazioni di questo genere non ce ne sono di fronte a una cosa che però è chiaramente di una enormità quasi inconcepibile allora mi chiedevo un po' come sia possibile perché partiamo presupposto il 41 bis non ha più alcuna ragione di esistere nel senso che è nato con un motivo solo costringere i mafiosi allora o comunque gli aderenti alla criminalità organizzata a pentirsi non aveva un'altra logica tu vai dentro e stai dentro finché non ti penti e per un periodo iniziale come sappiamo ha funzionato però sappiamo anche che da ormai molto tempo non funziona più cioè che l'ondata di pentimenti e delazione che era dovuta al 41 bis etica o non etica che fosse si è arrestata ma questo da ormai da più di dieci anni è diciamo proprio statistico poteva avere un effetto di deterrenza che non ha perché esattamente come la pena di morte negli Stati Uniti non c'è alcun legame tra la tortura del 41 bis e un abbassamento del livello di criminalità di adesione alla criminalità organizzata in compenso non ha più alcun senso ma si allarga a vista d'occhio appunto fino a arrivare a questo che è in tutta evidenza è un caso limite allora la domanda è come mai questa cosa viene accettata come mai tante persone come dire ben disposte progressiste e la ritengono magari non normale ma insomma un peccato veniale cose che capitano allora a me vengono in mente due cose che col 41 bis con la criminalità organizzata con gli anarchici non c'entrano niente e che anzi probabilmente sulle quali molti che sono contrari al 41 bis sono invece d'accordo sta per andare in aula per essere convertito il decreto rave decreto rave si porta dietro un emendamento che toglie ci sono alcuni reati ostativi cioè chi commette questi reati non può avere accesso alle pene accessorie alle pene alternative l'emendamento al decreto rave dice che questa ostatività viene tolta dai reati contro la pubblica amministrazione e ha provocato ha provocato a sinistra ha provocato tra i progressisti ha provocato virgolette tra noi una vera ondata di indignazione per dire ma non è possibile perché finisce che quelli non vanno più in galera non un'indignazione che sarebbe stata giusta perché solo quelli contro la pubblica amministrazione ma un'indignazione che dice cazzo ma non è possibile così finisce che stanno a casa stanno ai domiciliari e devono andare in galera e io sento tutte le sere in televisione qualcuno che senza che nessuno lo contrasti dice capite questi non faranno più quegli anni di galera resteranno impuniti però c'è di peggio la norma molto contrastata io l'ho seguita come un giornalista politico sullo scudo penare per gli evasori dal punto di vista culturale è interessante perché quella norma diceva se c'è un evasore che paga tutto e tutto insieme cioè che salda il suo debito come quindi che diciamo porta soldi nelle casse dello Stato non è solo che si ravvede e non paga rateizzato paga tutto insieme può non andare in galera per omessa dichiarazione o dichiarazione infedele ora sembrerebbe una cosa normale e invece c'è stata una insurrezione non perché così non pagano ma perché devono andare in galera non esiste che anche se pagano non vanno in galera e questo è al nostro mondo che piace è il nostro mondo è la sinistra è progressivo persino il garantismo che dice no ma è giusto quelli non solo devono pagare che naturalmente invece è giusto ma devono andare in galera devono andare sotto processo devono pagare gli avvocati e questo non serve e naturalmente da un punto di vista come dire della efficacia è controproducente perché è ovvio che se uno gli dici guarda che se tu anche paghi però poi vai sotto processo è ovvio che quello non emergerà mai quindi è controproducente dal punto di vista proprio del recuperare il mal tolto è produttivo solo dal punto di vista del però sei punito e questa è oggi la cultura imperante una cultura che va da destra a sinistra ma è vero che anche nella destra ci sono è interessante perché la destra è più garantista della sinistra lo è sempre stato almeno lo è sempre stato dai tempi di Berlusconi in poi però adesso trova una formula interessante garantisti nel processo ma certezza della pena una volta che il processo si è concluso ora questa cultura della punizione della pena della espiazione che non non ha più niente di pragmatico non ha più niente in cui dice ci serve utile non utile io credo che è quella che spiega perché poi ti trovi con uno che sta al 41 bis per non avere fatto quasi niente e però ti sembra se non proprio normale quasi normale e c'è un secondo motivo secondo me che spiega il silenzio e questo diciamo paradossalmente è più longevo e meno grave e è quello che si è sempre tradotto nella formula più stupida di tutti i tempi che le sentenze non si discutono e cioè l'idea che comunque noi non possiamo mettere in discussione quello che decide la magistratura non si può fare perché così non si capisce bene cosa a quali disastri aprire e questo invece è un limite culturale e politico prima che concreto che riguarda solo la sinistra la destra almeno in questa è meglio queste due cose sommate creano una cultura tremenda perché questa cultura impedisce di contrastare aberrazioni come quelle di cui è vittima cospito o costringe a contrastarle in una posizione di margine allora io credo che noi voi fate benissimo a fare le cose che fate è assolutamente fondamentale fare tutto quello che si può fare però se noi non riusciamo a rimettere in discussione questa cultura che è a monte diciamo facciamo bene occuparci del quadro ma se non cambiamo la cornice non cambierà mai neanche il quadro tutto qui e vi ringrazio ciao grazie grazie straordinario come sempre che tra l'altro io dico una cosa velocissima a volte sono stato quasi accusato perché se contesti una sentenza non rispetti la magistratura no cioè io sono figlio di un giudice alcuni miei carissimi amici sono magistrati anche per me poche persone hanno più rispetto di me della magistratura avere rispetto dell'istituzione magistratura delle sue funzioni non vuol dire che allora ogni sentenza non puoi permetterti di commentarlo ogni ingiustizia va bene perché se un giudice l'ha detto è una follia è una follia è una follia adesso passo la parola al prossimo ospite dopo aver ringraziato Andrea cioè Vincenzo Improta che è un bravissimo avvocato di Napoli membro del consiglio direttivo di nessuno Chicaino a te la parola Vincenzo grazie prima di tutto vi saluto e vi faccio i complimenti per questa iniziativa che avete preso gli spunti sono tanti poi faccio il civilista l'amministrativista però il diritto penale come dire è materia che mi interessa perché mi interessa il rapporto fra autorità e libertà e mi interessa anche un po' la politica insomma le dimensioni che attraversano il tema delle scelte nella materia del diritto della giustizia prima di tutto voglio dire una cosa la voglio dire riferendomi a quello che ha detto la collega Calia cioè questo rischio che si corre a rappresentare un punto di vista critico rispetto a questi istituti si rischia si rischia e mi è venuto in mente Socrate il processo a Socrate si sviluppò su due momenti un primo relativo alla colpevolezza il secondo relativo alla condanna che doveva avere quando dopo la sentenza di condanna diciamo così che aveva detto che Socrate aveva corrotti i giovani si fusi riunire un'altra volta per sapere che pene doveva avere e volevano anche diciamo non ammazzarlo costringerlo all'esilo stracismo e quando gli disse però che l'avrebbero diciamo c'era un tema di condanna del problema della condanna e poi mi dovete dare un premio per quello che ho fatto io nel rapporto con la città con i giovani e noi ci troviamo un po' così invece di pensare che persone come te come me come quelli che sono venuti potrebbero mai essere sottoposti a una sorta di condanna ci dovrebbero dare un premio vi dovrebbero dare un premio a voi che avete organizzato una cosa di questo rilevo perché la razionalità gli argomenti la cultura che si è manifestata in un evento come questo meriterebbe non sicuramente nessuna condanna ma un premio e poi voglio dire un'altra cosa sempre riferendomi alla cultura classica Aristotele quando diceva che ci doveva stare il dialogo la dialettica diceva che però prima di tutto bisognava chiarire gli endoxa cioè le premesse dalle quali partire condivise per poter avere un vero reologo altrimenti diceva Aristotele non vale proprio la pena di impegnarsi con chi non condivide certe premesse la prima premessa che penso bisognerebbe condividere per chi discute di materie di diritto è se l'ordinamento giuridico le norme sono deputate incutere paura nei consociati è solo attraverso la paura ottenere diciamo l'adesione alla norma l'adesione a quel comportamento ideale che la norma identifica è evidente che questa concezione di matrice obsiana cioè leviatano sia affermata nel nostro paese lo ricordava anche Colombo prima io poi dirò pure per quando riguarda le cose che ha detto una cosa questa matrice viene diciamo viene propagandata come matrice realistica no della della dimensione giuridica però il realismo questo realismo non solo si scontra con il tema dei risultati perché come è stato efficacemente è stato efficacemente ricordato nonostante la presenza di queste norme sempre più ispirate al tentativo di comprimere reprimere generare paura poi alla fine la sconfitta delle organizzazioni criminali non è che l'abbiano prodotta nella forma che in qualche modo era la base delle promesse che poi giustificavano la dozzone di certi provvedimenti e poi c'è un problema che riguarda anche le carceri perché le carceri in realtà questo sistema questo idea di mettere i corpi chiusi è il realismo è anche tutti i suicidi sventati i suicidi che si sono realizzati è un buon risultato e non credo proprio se si fossero sommati i i tentativi si fossero realizzati 100 tentativi di suicidi ai morti veri che si sono stati in Italia vanderebbe il triste primato di mille morti nelle carceri la patria del diritto lo stato di diritto sarebbe diciamo dimostrato per tabulas che è un'invenzione in Italia non vivremmo una condizione certamente da stato di diritto da ehm possibilità di evocare un primato della cultura giuridica italiana e poi c'è il problema che io identifico invece come chiaro la nostra Costituzione non è ispirata alla paura ma è ispirata alla fiducia e all'ottimismo perché altrimenti che cos'è il principio di presunzione di non colpevolezza se non una manifestazione di fiducia nelle persone che diciamo si ritrovano pur se si ritrovano in una condizione di essere sottoposte a una cosa che cos'è la rieducazione del condannato se non una manifestazione di ottimismo per le possibilità che questa persona ripensi se stessa e sia come ho detto in varie occasioni in cui ho avuto modo di intervenire anche nelle carceri eh il condannato che è stato lava lava dolente che ha bruciato vita della vita propria la vita degli altri sia anche la pillo cioè cenere vulcanica che si depose sulla terra e la feconda e quindi una materia che feconda se stessa la propria vita e la vita degli altri con la quale con la quale al rapporto quindi diciamo fiducia e ottimismo fiducia e ottimismo che dovrebbero essere la cifra attraverso la quale con la quale governare i processi i processi diciamo che riguardano l'organizzazione del diritto dell'ordinamento giuridico e quindi del sistema giustizia noi dobbiamo però rappresentare una crisi diciamo di questa dimensione derivante dall'affermazione di culture giustizialiste il primo Colombo lo diceva la sinistra è giustizialista ma quale sinistra è giustizialista? la sinistra la sinistra è sopravvissuta a Mani Pulite certamente di sinistra possiamo definire Marco Pannella certo Marco Pannella non era giustizialista diciamo le correnti socialisti libertari liberali certo non possono essere definite giustizialiste nel nostro paese invece l'incontro tra un cattolicesimo di sinistra e una sinistra di derivazione comunista marxista leninista ha generato i problemi che abbiamo in materia di rapporto tra politica e giustizia cioè noi non riusciamo ad avere provvedimenti di amnistia di indulto che pure dovrebbero essere potrebbero essere utili per impedire che tante persone che diciamo devono scontare pene piccole o comunque sono al termine del loro percorso continuano a restare in carcere quindi voglio dire c'è un problema un problema di questa di questa matrice e c'è il problema della della separazione dei poteri voglio dire Colombo lo ricordava il giornalista ma ci sono anche i giornalisti coinvolti in questo sistema che ormai schiaccia le persone sugli avvisi di garanzia sulle indagini sulle trasmissioni televisive sulle campagne sui giornali cioè c'è una necessità che si ripensi a questo tipo di rapporto tra la politica e la giustizia e i media e poi si ripensi a rifondare un sistema che garantisca allo stesso tempo i diritti delle persone e garantisca anche poi voglio dire politiche criminali realistiche nel senso che della loro efficacia perché altrimenti corriamo il rischio di restare di restare nell'ambito degli esercizi labiali degli esercizi labiali cioè voglio la giustizia è una giustizia declamata ma non è praticata con quella efficace e quell'effettività che invece ci si aspetta quindi diciamo il caso che viene proposto voglio dire è emblematico poi di un'altra rappresentazione del rapporto fra autorità e libertà che deifica lo Stato deifica lo Stato la sua sicurezza ne fa un idolo al quale si sacrifica la libertà personale si sacrifica i diritti delle persone laddove poi appunto come è stato efficacemente ricordato i comportamenti non sono tali da generare quello che poi merita come dire una repressione dura forte diciamo che il sangue cioè questo il caso che esaminiamo che voi avete posto all'attenzione sangue non ce n'è e quindi questo non è non è cosa da poco è cosa da ricordare è cosa da poi in relazione all'atteggiamento più che l'atteggiamento proprio alle decisioni che si sono sviluppate in merito al gastro allo stativo è venuto in mente Saint Just Saint Just il quale fa questo rapporto sulle persone carcerate in cui esamini il rapporto tra virtù e terrore ho ritrovato ritrovato delle impostazioni ideologiche che sono alla base di questa ostinazione a considerare nel gastro lo statino strumento quello che diceva Saint Just che bisognava colpire non soltanto chi si opponeva alla rivoluzione ma bisognava colpire gli indifferenti quelli che non collaboravano e anche qui sul tema della collaborazione ho letto ho letto la decisione della corte di costituzionale delle impostazioni non lo so questi elementi ulteriori che dovrebbero essere forniti dopo trent'anni che sta in galera per per poter usufruire dei benefici che la legislazione consente a tutti i detenuti ho l'impressione che si ritorna a un clima medievale cioè per ottenere questi benefici ti devi accecare ti devi tagliare le mani e ti devi tagliare la lingua solo diciamo così puoi riuscire a ottenere come dire la certezza che tutti quei legami ipotetici che vengono posti a base della volontà di conservare questi strumenti che sono strumenti di tortura tra l'altro inefficaci a quanto pare perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno indicato sia il grottesco di una della condizione evocata dall'avvocato Calia relativa ai detenuti per reati diciamo terroristici che dovrebbero potrebbero ricollaborare a una organizzazione che non c'è più sia quelli un po' più legati proprio alla alla dimensione della mafiosa dove tra l'altro il rischio è quello della di condannare i propri familiari se per avventura e qui c'è anche un altro problema che evoca sempre questa dimensione dell'autorità della libertà ma è liberare uno stato che chiede che oltre trent'anni di carcere in cui il tuo corpo è stato compresso in una dimensione fisica abberrante tu debba diciamo in qualche modo cedere la tua anima è uno stato che chiede che sia l'anima il prezzo da pagare per aver commesso un reato non è certamente uno stato liberale non è certamente uno stato a cui noi la spieghiamo e da quale facciamo derivare la parte migliore di noi stessi perché poi questo è il punto diciamo c'è sono trent'anni ormai che Colombo lo ricordava efficacemente e mi associa a lui pur avendo diciamo detto quella cosa sulla sinistra perché poi sinistra non ce n'è una sola però lui l'ha detto ha detto noi dobbiamo cercare di rappresentare in termini umani in termini culturalmente qualificati la nostra idea di giustizia non è che diciamo si compia un'operazione di morale diciamo nel senso più profondo del termine di rappresentazione del senso morale come alla base delle proprie scelte se si chiede che si buttino le chiavi se si chiede che chiunque diciamo abbia commesso anche una qualche violazione di matrice fiscale sia pronto a riparare bisogna metterlo per forza in galera c'è un problema di culturale senza il quale non affrontando il quale prevarranno sempre questi questi qua come la Saint-Just credevano che solo estirpando fisicamente gli uomini dalla loro vita dal loro paese si potesse affermare un regno della felicità della fratellanza dell'uguaglianza abbiamo visto che non è stato così che già in Francia la rivoluzione francese che pure ha avuto il merito di indicare nella triade libertà fraternità e uguaglianza una triade da seguire però poi insomma gli esiti successivi sono stati pure i napoleonici non è che Napoleone era proprio un benefattore basta ricordare i quadri del Goya sulla Spagna la sua attività di rapina di tanti beni che razziava di qua e di là conquistanti i papai voglio dire noi dobbiamo riuscire a rappresentare in termini appunto di fiducia di ottimismo di verità di tolleranza quello che diciamo quello quello che cui a noi ossia cioè dobbiamo costruire prima per noi il mondo che vogliamo realizzare se le persone non si sforzano di comprendere le ragioni degli altri non si sforzano di comprendere quanto sia necessario perché umani lo siamo a prescindere dalla nostra volontà cioè nasciamo tutti quanti allo stesso modo la biologia la genetica ci hanno detto che siamo tutti uguali perché non esistono le razze che cos'è allora che fonda la nostra umanità cioè quando è che noi diventiamo umani nel senso migliore che noi individuiamo definiamo e quando noi appunto ci misuriamo con la scelta con le scelte con il fatto di scegliere opzioni per risolvere alcuni problemi nelle quali i diritti delle persone non vengano sacrificati invece diciamo in qualche modo questa vicenda di questo questo signore che ha sbagliato certamente ha sbagliato se ha partecipato a dei ferimenti prima poi ha messo degli ordigni esplosivi però una volta che ci ha consegnato il corpo e il corpo è stato tenuto tra virgolette prigioniero per il tempo che i giudici hanno hanno ritenuto tengono congruo poi ai fini di ottenere anche di benefici ma perché questa persona non deve essere messa in condizione di poterlo cioè dov'è la ragione razionale culturale emotiva alla quale ricolleghiamo il fatto che dobbiamo fare un divieto è solo una ragione di potere la magistratura italiana attraverso i pubblici ministeri i magistrati in simbiosi col giornalismo che liscia il pelo al giustizialismo più deteriore ha deciso che è la paura però sempre sempre con la retorica che queste diciamo sono i costruttori del mondo migliore dell'uomo nuovo il mondo nuovo però poi in realtà con la loro azione ci fanno vivere diciamo non propriamente del migliore dei mondi possibili il peggiore dei mondi possibili ma sicuramente non il migliore dei mondi possibili che loro invece ritengono che sia stato affidato il compito di costruirlo e quindi diciamo iniziative come la vostra e l'azione di nessuno di occhi caino le opinioni che ho sentito perché ho ascoltato parte del dibattito come avete potuto vedere mi inducono a ritenere che si stia creando quella massa critica quella massa critica che Kuhn avrebbe definito utile al cambio di paradigma cioè col paradigma dell'Eviatano col paradigma di Hobbes col paradigma della paura della repressione il nostro paese non migliora occorre cambiare il paradigma ricomponendo diciamo la società italiana sulla con la grande tela della fiducia la grande tela dell'ottimismo e mi fermo qua grazie grazie caro caro vincenzo bellissimo intervento ti ringrazio molto di aver partecipato e ora passo la parola a un tuo caro amico credo di Napoli come te anche lui avvocato ma anche professore di diritto penale all'università Federico secondo di Napoli anche lui è in nessuno tocchi caino ma è un membro della presidenza d'onora di nessuno tocchi caino quindi passo la parola al professor Vincenzo Maiello grazie grazie anche per avermi collocato in sequenza immediata con l'intervento del mio amico fraterno Enzo Improta per quale sono legato da vincoli non formali anzi molto coinvolgenti di amicizia risalente e di comuni esperienze intellettuali di riflessione anche io mi colloco sulla scia di Vincenzo quando ha sottolineato l'importanza di iniziative come le vostre perché al di là dei contenuti e delle e delle considerazioni che si possono dire e mettere al centro della nostra discussione sulla vicenda specifica da cui trae origine la vostra iniziativa io credo che noi dobbiamo portare la nostra attenzione sul significato per rilanciarla in tante altre iniziative sul significato che deve avere il coinvolgimento di un'opinione pubblica sempre più allargata sui temi della giustizia penale perché proprio quello che voi giustamente stigmatizzavate cioè questa chiusura sacerdotale corporativa della casta che vorrebbe che una volta che si formi il giudicato quel giudicato venga in qualche modo sottratto alla discussione in nome di uno seguito formale ecco io credo che quello sia proprio il riflesso di una impostazione che si è voluta dare alla giustizia penale come affare di un potere dello Stato che la custodisce nei suoi significati di valore e invece la giustizia penale incrocia il cuore della democrazia e della democrazia costituzionale basta basta riflettere sul fatto che le costituzioni le costituzioni in qualsiasi epoca siano nate qualsiasi forma abbiano assunte siano state originate dall'esigenza di fornire risposte ai temi classici del potere di punire il rapporto tra autorità e libertà il tema della definizione dei limiti al potere di punire quindi la giustizia penale le sue problematiche i suoi profili identitari costituiscono una questione costituente rappresentano il motore dei processi costituenti che finiscono poi con l'approvazione delle carte e allora sarebbe paradossale che una questione così cruciale del nostro stare insieme venisse sottratta alla discussione pubblica in nome di un sigillo formale che viene dato all'agire istituzionale in questa in questa materia io penso che noi oggi stiamo scontando proprio il il frutto malato di questa impostazione che ruota intorno alla delega esplicita o implicita che la politica ha dato alla magistratura di tutta una serie di questioni facendone questioni penalistiche e facendone questioni penalistiche affidate alla capacità di giudizio concludente della magistratura io voglio dire che invece noi dobbiamo rilanciare nel foro del dibattito pubblico le questioni che riguardano la giustizia penale perché da una presa di coscienza collettiva su come viene amministrata oggi la giustizia penale su quello che è il ruolo della giustizia penale negli assetti delle relazioni di potere noi possiamo venire a capo di quello che non va in questo sistema e possiamo venire a capo di quello che non va in questo sistema rendendo consapevole il soggetto in nome del quale noi impostiamo questi discorsi di potere cioè il popolo e la sua sovranità in fondo il popolo è stato privato della sovranità di decidere che forma dare alla giustizia penale che modello seguire di giustizia penale perché abbiamo assistito in tutti questi anni alla alla sostanziale allo sostanziale svuotamento del principio democratico all'interno dei processi produttivi delle leggi la riserva di legge è stato un simulacro dietro al quale si sono formalizzate deleghe da parte del legislativo al potere giudiziario queste deleghe hanno riguardato innanzitutto il profluvio di norme penali che sono state emanate vedete ogni qual volta il legislatore emana una norma che incrimina un certo fatto finisce per accrescere il potere della magistratura spogliando in parte la politica del compito di incidere sulle cause dei fenomeni che si affidano poi al potere puramente sanzionatorio della magistratura quindi quella che Carrara chiamava la nomorrea penale cioè questa ipertrofia smisurata di norme certifica il fallimento della politica e certifica lo svuotamento del potere di regolazione dei processi pubblici da parte della politica e il loro trasferimento nelle alle di giustizia se a questo poi aggiungiamo che il discorso pubblico costituito dalle frange dei pensatori del giornalismo degli intellettuali quasi a pudore nell'applicare la disciplina della ragione alla verifica nei fatti di come vanno le cose abbiamo la chiusura del cerchio e abbiamo la sublimazione della formale intoccabilità della gestione di queste cose da parte del potere giudiziario noi dobbiamo fare in modo invece che la cultura della costituzione che non è la cultura che sta dietro ai processi di produzione delle leggi penali e di gestione delle reggiudicande da parte del potere giudiziario torni ad essere torni diciamo divenga cultura maggioritaria nel paese e per farlo occorre attivare gli anticorpi della discussione pubblica di cui le vostre iniziative sono uno strumento dobbiamo fare in modo che la piazza torni a essere un luogo come dice Enzo dove è presente la massa critica della ragione torni a essere un luogo di controllo dell'esercizio del potere invece noi che cosa oggi abbiamo che il diciamo l'opinione pubblica è un'opinione pubblica rinzecchita nella sua capacità critica schiacciata sulla sui borboricchiumi della piazza che per in quanto fornitrice del consenso alla politica finisce per essere assegurata dalle scelte della politica questo cortocircuito avviene fuori e contro la costituzione noi dobbiamo rimettere al centro dei nostri discorsi e delle nostre relazioni pubbliche la costituzione se mettessimo al centro la costituzione non ci sarebbe il diritto penale che abbiamo e non ci sarebbe l'esercizio scriteriato del potere di organizzare l'esercizio della giurisdizione penale così come noi la conosciamo non ci sarebbe il 41 bis non ci sarebbe l'ergastolo stativo non ci sarebbe il profluvio di norme penali non ci sarebbe la commissione tra magistratura che accusa e magistratura che decide e avremmo una magistratura che forse potrebbe essere messa nelle condizioni di onorare l'autonomia e l'indipendenza del proprio agire mettendo al centro l'imparzialità della decisione perché perché quella magistratura non si sentirebbe incalzata dall'esigenza di assecondare quello che è il clima culturale diffuso certo la magistratura non dovrebbe mai sentirsi nella esigenza nella condizione di seguire la piazza e il clima culturale diffuso perché l'etica della giurisdizione vorrebbe che il giudice non sia libero di assolvere quando la piazza vorrebbe che si condanni e sia libero di condannare quando la piazza vorrebbe che si assolva perché perché dietro l'agire dei giudici c'è un un ordine di idee controintuitivo antilogico perché il diritto penale è un diritto antilogico e controintuitivo perché se volessimo seguire l'intuizione il diritto penale dovrebbe essere costruito sulla vendetta se volessimo seguire l'intuizione il diritto penale il processo penale dovrebbe seguire il sospetto non la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio quindi dietro l'esigenza di mettere al centro della della cultura sociale diffusa la costituzione c'è anche un modo per rispettare queste che erano le promesse originarie dell'illuminismo e dello stato costituzionale fare in modo che la giustizia si occupi della tutela dei diritti a prescindere da quelli che siano i suoi fruitori vedete a me io credo che qualche cosa si stia svegliando nella nella società per esempio noto con grande favore il successo che sta riscuotendo il libro il libro di alessandro barbano che è dedicato agli usi ai sofrusi e alle derive del potere costituitosi nel nostro paese intorno al paradigma dell'antimafia poi vi possono essere anche diciamo come dire dei profili delle considerazioni che nel foro della pubblica discussione possono anche andare incontro a delle differenziazioni a a dei distinguo ma resta il grande valore civile di una denuncia resta la presa di posizione di un intellettuale di un pensatore di un organizzatore di idee di un critico del potere che svela le ipocrisie del discorso ufficiale un po' come si faceva nell'antica Grecia da parte dei cosiddetti parresiastess che erano coloro i quali esercitavano la parresia la parresia non era soltanto un parlar franco un dire la verità ma un dire la verità contro il detentore del potere accettando il rischio che il detentore del potere potesse anche reagire con qualche tra virgolette scomunica ecco io collocherei anche il valore civile di queste vostre iniziative in questo clima culturale un po' più ampio anche se comunque tiepido e timido in cui si comincia a mettere in discussione l'assunto secondo cui il re non è mai nudo invece il re è nudo e la vicenda da cui ha tratto spunto questa vostra riflessione dimostra come una volta inserito nel sistema un congegno micidiale che attenta ai diritti di libertà non vi sono poi confini e limiti che possano tenere quindi grande grande apprezzamento per la vostra iniziativa che vengano sempre più spesso occasioni di discussione pubblica sui temi della giustizia penale dobbiamo fare in modo che la cultura costituzionale del diritto e del processo penale si propaghino in tutti i luoghi possibili di discussione per inseguire l'obiettivo di fare in modo che una parte significativa del paese condivida questo progetto vedete è proprio paradossale che la cultura costituzionale del diritto e del processo penale vale a dire la cultura della carta a fondamento del nostro vivere civile e sociale sia minoranza nel paese ma come è possibile come è possibile e il fatto che sia minoranza nel paese e sia invece maggioranza una cultura anticostituzionale del diritto del processo penale legittima i detentori della politica ad assecondare questo trend fatto di un consenso malato fatto di una visione di una visione troglodidica primitiva del nostro concepire il rapporto fondamentale della delle società come si come si configura come si atteggia il rapporto tra il potere tra l'autorità e il singolo tra l'autorità e i diritti grazie dell'attenzione e dell'occasione che mi è stata data grazie grazie professore preziosissimo e tutti i punti di riflessione che ci ha dato adesso io passerei la parola a un attivista straordinaria Antea Di Benedetto presidente dell'associazione di Palermo Aurea Caritate Antea ci senti? grazie Elisa grazie Umberto buongiorno a tutti purtroppo non siamo arrivati in orario io quindi farò un intervento molto molto breve intanto vi ringrazio perché il dibattito deve rimanere sempre aperto come diceva poco anzi il professore è necessario mantenere vigile l'attenzione su i temi a cui la partecipazione collettiva non può sottrarsi il mio punto di vista a riguardo è proprio che al di là degli approcci tecnico giuridici possiamo dire che nel suddetto caso a mio avviso vedo sempre più una questione di accanimento repressivo ideologico ecco dove si vuole probabilmente annichilire annientare la persona che invece è centrale come ben sappiamo per quello che è nelle corti nazionali sappiamo bene che la corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciato in tal senso il divieto di trattamenti inumani e degradanti ecco e tutto questo poi fondato su cosa sulla su una presunzione di pericolosità sociale e allora abbiamo lasciato alle spalle un secolo abbastanza barbaro e buio che ha provato ha messo a dura prova la dignità dell'essere umano e sicuramente sappiamo che abbiamo avuto anche il processo di Norimberga a tal proposito allora la mia riflessione abbiamo lasciato alle spalle da poco tutto ciò e quasi quasi nel volere condannare questi trattamenti cioè lo Stato invece assume praticamente in perfetto stile scusate se sono molto strong praticamente consolida anche queste come dire questi approcci volti più alla tortura ma questo è solo il mio punto di vista e quindi percepisco non solo un'ipocrisia come diceva il professore Pocanzi ma percepisco veramente una grandissima incoerenza noi non siamo allineati con le corti nazionali noi ci facciamo richiamare continuamente l'ISAP ben sa come noi lavoriamo anche a tutela di madri e bambini e quindi c'è un'incoerenza di fondo un sistema che è già abbastanza confuso ecco vorrei dire confuso ma non mi pronuncio in altro comunque quindi come se neppure la pena dovesse essere commisurata al reato nel caso suddetto peraltro siamo sempre lì alla domanda cosa ha determinato questa pena la mia domanda è focalizzata su questo per spingere una riflessione ma non dimentichiamo anche che come diceva è sottolineato la corte europea su una presunzione cioè sulla presunzione della possibilità di mettersi in contatto in collegamento con determinate persone che possano ricreare diciamo i presupposti di nuovi reati ma siamo veramente sicuri che sia questo ecco e quindi io mi chiedo in che rapporto lo Stato riesce ad operare dobbiamo porci tante domande se queste pene effettivamente oggi possiamo veramente accettarle se non sia stata quasi una condanna volutamente esemplare la mia domanda rimane sempre questa cioè se volessero una posizione marcatamente ideologica perché si tratta comunque di un contesto anarchico e quindi qua lo Stato era quasi desideroso di dover dare una dimostrazione una pena quasi plateale quando poi la realtà è di fatto ma questo l'ho detto anche poc'anzi lasciamo agli avvocati la difesa non si tratta forse totalmente di questo non risponde effettivamente a quello che è il reato contestato quindi questa è la mia brevissima sintesi scusate sono fuori non so se mi riuscite a sentire bene fra class spero di essere stata chiara quindi il rapporto tra come lo Stato opera e l'istituzione cosa incarna a questo punto qual è la razza di tutto questo dove arriveremo noi condanniamo i trattamenti di decredanti e poi in realtà vengono quasi assunti devono assurgere quasi appena esemplari plateali dispiace chiaramente anche perché noi in Italia ricordiamo siamo uno Stato cristiano abbiamo radici giudaico cristiane anche da questo punto di vista su cosa vogliamo costruire una società civile non dimentichiamo la centralità umana dell'essere umano e anche il diritto dell'uomo e quindi insomma questo è voluto essere oggi la mia velocissima e sintetica posizione vi ringrazio lascio spazio a tutti gli altri vi abbraccio vi ringrazio sempre per queste iniziative adesso devo andare grazie 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 non solo di aver partecipato ma anche per diciamo la capacità di sintesi io devo chiedere a tutti un grande favore purtroppo noi abbiamo circa mezz'ora di ritardo perché quasi tutte le persone è comprensibile poi c'erano persone di elevatissimo livello e qualità che avevano cose molto importanti da dire però praticamente nessuno è riuscito a stare nei dieci minuti questo si è fatto avere mezz'ora di ritardo questo può essere un problema serio perché tantissime persone devono ancora parlare quindi chiedo a tutti quelli che verranno adesso di provare a sintetizzare al massimo e fare un po' meno di dieci minuti sei sette minuti grazie di cuore passo la parola a Vincenzo di Cuonzo detenuto in articolo 21 nel carcere di Bollate e fondatore di una bellissima associazione che si occupa del reinserimento lavorativo dei detenuti come lui che si chiama Mitiga che sta nascendo proprio adesso c'è tutto il mio sostegno Vincenzo Vincenzo a te Vincenzo non ti sentiamo devi attivare l'audio eccomi qua adesso grazie Vincenzo buongiorno allora sì cercherò di essere il più breve possibile innanzitutto volevo ringraziarvi per questa occasione sono molto felice di aver ascoltato le persone che insomma mi hanno preceduto perché mi si è scaldato il cuore nel vedere che c'è una parte di umanità pronta come dire a partecipare attivamente all'evoluzione della nostra società di cui si ha bisogno cercherò di essere sintetico anche se viene da sé che parlare di carcere di 41 bis di reato stativo parlare di esseri umani vincolati al sistema penitenziario insomma non è un argomento che si può esaurire in pochi minuti e allora approfitterò di questa grande occasione per la quale vi ringrazio di nuovo sentitamente a nome mio e a nome di tutte le persone detenute private della libertà di cui in questo momento mi faccio portavoce per ecco fare un appello fare un appello affinché iniziative come queste diventino la normalità riprendo un attimo ciò che diceva il dottor Improta rispetto alla massa critica al cambio di paradigma di cui c'è bisogno Mitiga nasce per favorire l'inserimento sociolavorativo delle persone detenute ma non solo tra i suoi elementi cardine ha proprio quello di voler informare sensibilizzare e promuovere questo cambio di paradigma verso la collettività perché la questione è questa almeno io parlo da un punto di vista meno tecnico e di esperienza come dire più empirica perché durante la mia detenzione sono stato anche detenuto in regime di 41 bis anche se in Spagna lo chiamano massima segurità FIESDOS ma grosso modo è l'equivalente grosso modo è l'equivalente del nostro 41 e la questione è questa ci sono stati la questione culturale e sociale sociale nel senso di umana ecco nel senso di con declinazione al valore umano ci sono stati dei dei momenti nella nella storia dell'umanità in cui delle pratiche grottesche erano considerate la normalità dal razzismo la schiavitù alle donne che non potevano votare o quando venivano messe a ruogo per stregonerie insomma penso al fascismo alle guerre mondiali ecco poi c'è stato un superamento di determinate situazioni e questo superamento ha fatto sì che l'umana famiglia potesse in qualche modo evolversi no emanciparsi da uno stato denigrante per migliorarsi bene oggi e con Mitical noi cerchiamo di fare questo e quello che voi state facendo con questa iniziativa va esattamente in questa direzione quindi vi rinnovo i miei ringraziamenti spero che come dire questa iniziativa possa essere una cassa di risonanza per arrivare quanto più possibile arrivare quanto più possibile al tessuto sociale dicevo ecco oggi siamo al punto parlo della nostra storia nazionale ma non solo perché siamo dell'idea che una persona che si migliori contribuisca al miglioramento della collettività della società a cui appartiene quindi se un paese come l'Italia migliora indirettamente apporta un miglioramento poi di riflesso in qualche modo a livello mondiale ecco oggi noi siamo arrivati in un punto della nostra storia in cui per poter evolvere come paese come comunità e come umanità dobbiamo superare l'attuale concezione che si ha di punizione e rispetto a quella che è la struttura carceraria e penitenziaria non solo fallimentare e disumana ma appunto obsoleta e che come dire non apporta alcun beneficio in termini né di recidiva né di civilizzazione del nostro tessuto sociale quindi ecco brevemente per lasciare anche spazio poi a chi seguirà dopo di me auspico come dire con tutto me stesso che la collettività possa farsi titolare dell'importanza che determinate tematiche come quelle che stiamo affrontando oggi abbiano come dire dei risvolti anche sulla vita propria nel senso che molte persone sono convinte che la cosa carcere è una cosa sestante che non gli riguarda perché magari non sono stati in carcere o perché hanno delle condotte integerrime e quindi dicono vabbè ma a me detenuti carceri 41 bis non è una cosa che riguarda me invece no sono qua per dire che il carcere e tutto ciò che riguarda il carcere appartiene ognuno di noi come essere umano perché se si compie un delitto come può essere quello del 41 bis nei confronti come quello dell'applicazione del 41 bis quindi quello che fondamentalmente è una vendetta è un omicidio a lungo termine istituzionale se si permette che oggi come dire il nostro patto sociale contempli una possibilità come quella del 41 bis o del del peggio forse peggio non so dell'ergassolo stativo e si se non si fa niente se non si prende una posizione a riguardo vuol dire che tacitamente si è complici dell'imbarbarimento del nostro tessuto sociale e come dire si collabora a zavorrare l'umana evoluzione ed elevazione verso la quale invece tutti dovremmo ambire quindi se si vuole un mondo una società la nostra umanità è un cancro in qualche modo e quindi niente grazie ancora per quello che state facendo avrete sempre il mio appoggio l'appoggio di Mitiga e spero come dire che ci sia un'altra occasione come questa per poter insomma portare il mio contributo e la mia testimonianza grazie grazie di cuore per quello che state facendo e buon lavoro grazie 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 a Vincenzo adesso passo la parola a un altro amico Ivano Aprile che pure lui ha conosciuto il carcere la disinzione sulla sua pelle Ivano a te la parola mi sentite? si 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 sentiamo buongiorno a tutti innanzitutto cercherò di stare perché di super terra è possibile anche la situazione un po' così contingente nella quale sono io permesso che non conosco Alfredo di questa zona anche se ogni tanto gli dedico quattro delle mie cose dico scusate magari li sto lasciando poi partecipando ai tuoi che ben conoscete anche voi e detto questo dico gli sono assolutamente solidale non mi riesce per nulla non conoscerlo perché spero in una situazione differente siccome è stato per insomma per una razione tipo quello che ho chiesto ai partiti di con il Stato ma siamo partiti e queste notiziazioni sono importantissime ma vorrei se è possibile fare alcune precisazioni fermo restando che si tratta del mio del mio pensiero cioè del punto al quale l'esperienza mi ha portato io direi che ognuno può inmedesimarsi nella condizione di essere sentiente privato della libertà non è poi così tanto difficile e nell'atto diciamo così come dire umanamente originario di essere la chiave che fa scattare il meccanismo che lo fa riaprire giusto per il tempo di rendersi di rendere una matricola diciamo e in quest'altro mi richiedono le varianti possibili le varianti possibili lo stiamo vedendo adesso in tutte queste discussioni di essere consapevoli che sia allo stesso tempo carmettice e vittima è uno degli stati che la detenzione è uno dei tanti stati che la detenzione si fa che faccia a chiunque chiunque a chiunque le sbarre mostrano che non esiste rieducazione sentite ragazzi mi sentite si ti sentiamo ti sentiamo no scusate io non mi sento più dicevo perché in mano dobbiamo tenere spento il microfono perché sennò ci sono interferenze ma così va bene ti sentiamo ok dicevo che a chiunque le sbarre mostrano che non esiste rieducazione come non esiste giustiziale parattiva secondo me ripeto queste sono mie idee infatti il credere e comportarmi di conseguenza è sempre stato antico da me nel senso che per me esiste un'espiazione della pena esistono sentenze quali che siano ed esistono condanne cioè ci sono condanne viste da passare al buio diciamo così metaforicamente per bene che situata perché al buio entri e al buio esci senza niente ma i dettagli sono più importanti sono cose più importanti dell'idea stessa del tempo che lasceranno quindi che cos'è questa educazione cioè se ne parla e se ne spiega soprattutto in questi giorni come se un uomo per acquisire educazione cioè come dire tra le tante esperienze che deve fare deve passare per il caccio commettere un un reato ed affidarsi più o forza alla custodia di tutti i suoi cioè di uomini cioè che la società delega ritenendoli degni a prescindere è in grado di generare una sorta di come dire di convenienza dinamica che altro non è il risultato passivo di morti come un tot vigilando le timere o cose del genere sono molti che racchiudono in sezessi l'impossibilità a torta ragione di essere superati nel tempo con la scienza umana o non umana che sia con la politica e così insomma è come una fede a quale ci mettono armi storie scritte in manette ed è insomma nient'altro che il corpo di una società indossabile irriformabile nel suo processo naturale perché quei muri sono nati per restare tanto è che si fa una fatica voglia persino parliamo della società diffusa di quel corpo di società si fa una fatica voglia per decidere di sbiancarli o di modificarne le situazioni che li attraversano per una chiara di vita ecco che ci vogliono decreti di due straordinarie per cambiare un testo di francella timbre firme contro firme alla signoria vostra eccetera 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 e questo nessuno lo può negare ci sono questi i particolari che ecco diciamo proprio idee ideologico progetti e financi sono così veloci che non passano nemmeno dal via e preferiscono i corritori delle sezioni dove si iniziano e rimangono all'affrita perché sulla carta è sempre stato tutto fatto sulla carta è sempre tutto pronto tutto fatto ma da adesso le parole dei nuovi avversi ai lavori lo spiegano bene io personalmente come Tancante si è pensato che che avere un ministro in quel posto chiaro un ministro che fosse bene la repensione penale e l'ordinamento presidenziale potrebbe essere un nuovo inizio si vede già fine perché la riforma della tutta è sempre l'ultima dunque dovrà questo è poco ma certo io come essere umano posso solo immaginare cosa voglia dire vivere o avere sulle spalle un mercato cultivo e barbarie nella barbarie questo cacciatore pesniere alla deriva cioè che è una ben sigillata di cacciato sociale non c'è altro e sia ben chiaro che io non sto dicendo che siamo innocenti assolutamente però dico che nemmeno si può cioè nemmeno è possibile da uomini come nel caso per la pretesa di chiedere al predo o di carriate insomma di farli cambiare opinione di rinunciare in questo modo ecco non si può accettare neanche come la viura il pensimento che se traspensi negli aspi al momento giusto accorciano la ruota della partita no? in totale non devono essere pareri legati alle classificazioni alle rapierne se a classificazioni a condizionare un giudizio o una revisione anche di sorveglianza anche il legislatore deve rispettare le regole e le regole devono sono e devono essere un fatto di laicità un fatto di coscienza che è quella cosa della quale della quale si accusa della mancanza quando si punta il dito o per meglio o per meglio dire si giudica e si dice la legge che è uguale per tutti e si punta i pollici e si dice alla festa di chi viene giudicato il potevole anche se per me questa frase sui muri dei tribunali insomma dietro l'idea andrebbe modificata cambiata la legge è uguale a chi la fa punto io vi ringrazio tutti e ripeto spero di una soluzione diversa per questo ragazzo che anche per tutti gli altri e di più per chi in quelle condizioni non dovrebbe nemmeno stare per cui ragazzi vi ringrazio e alla prossima grazie grazie Ivano grazie Ivano un abbraccio adesso adesso darei una parola al consigliere della regionale del Lazio nonché esponente storico dei radicali italiani Alessandro Capriccioli ciao buonasera scusate se non metto il video ma sono in una situazione di collegamento un po' precaria come avevo detto tanto vi ringrazio della dell'occasione perché è sempre importante discutere di questi temi cercherò di stare nella metà del tempo così vi faccio recuperare qualche minuto io volevo dire questo io naturalmente sono un testimone nel senso che conosco il carcere perché da consigliere regionale ho la prerogativa così si dice di poterci andare che credo corrisponda a una necessità cioè la necessità che si verifichi quello che succede in quei luoghi e per questo riferisco quello che vedo in un posto che in questi cinque anni ho cominciato diciamo così per esperienza personale a conoscere io credo che sia giusto dire una cosa che partendo dal caso cospito ma anche dalla questione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo che il 41 bis dei reati ostativi non sono un'eccezione rispetto a tutto il resto secondo me è un errore considerare queste situazioni come qualcosa di separato dalla situazione generale delle nostre carceri anche se naturalmente sono manifestazioni estreme di un disagio che c'è però a tutti i livelli i diritti delle persone vengono calpestati a tutti i livelli nei nostri istituti penitenziari a tutti i livelli significa che rispetto alle pene previste dal codice penale dal codice di procedura penale si devono scontare delle pene supplementari e soprattutto che visitando quei luoghi si ravvisa una clamorosa mancanza di senso quei luoghi sono luoghi di cui non si percepisce il significato la funzione e la ragione se non nell'ottica come dire di una continua punizione che così come succedeva prima dell'ottocento quando quando le persone venivano condannate a pene corporali ecco anche queste incidono sul corpo delle persone però lo fanno non più come accadeva una volta diciamo sulla pubblica piazza nell'udibrio generale ma in luoghi inascosti lontani inaccessibili nei quali quasi nessuno può entrare come se da un lato si dovesse continuare a erogare quella punizione sui corpi e dall'altro ci si vergognasse di esporla e di farla e di farla vedere è evidente che il tema carcere non è un tema separato dal resto della società è evidente che riguarda tutti perché quello che troviamo là dentro è esattamente la rappresentazione plastica del nostro fallimento fuori dico delle banalità se dico che per la stragrande maggioranza dei casi le persone che popolano i nostri istituti penitenziari sono persone che provengono da realtà difficili spesso provengono dalla marginalità e spesso inevitabilmente tornano alla marginalità e quindi di nuovo al carcere dopo le loro esperienze carcerarie e forse questo è un altro motivo per cui quei luoghi sono nascosti e inaccessibili perché sono la rappresentazione del nostro fallimento nel prendere nell'occuparci di fasce di popolazione di realtà sociali nelle quali non si riesce a incidere e sostanzialmente si è andato determinando una sorta di circuito di welfare perverso e parallelo che è quello che porta le persone a commettere reati a entrare in carcere a uscire e poi a rientrare si dice si parla spesso della recidiva e ci giustamente ci si lamenta del fatto che le persone che passano nelle nostre carceri in genere ci tornino in questo sistema che io considero un sistema di oppressione e lo dico senza nessuna riserva in questo sistema non soltanto non è un problema che le persone tornino in carcere ma è necessario che ci tornino perché se non ci tornassero di quelle persone dovremmo occuparci e dovremmo cercare di approfondire le ragioni per cui sono entrate a far parte di un certo circuito e gli strumenti per risocializzarle la parola rieducare trovo che sia una parola orribile per restituirle alla possibilità di rientrare a partecipare alla vita collettiva in modo produttivo è evidente poi che e lo dico in 20 secondi sono stato anche a visitare persone nel circuito del 41 bis dove è ovvio a qualsiasi osservatore che le condizioni di vita sono rappresentano intrinsecamente concettualmente delle situazioni di tortura perché i divieti le imposizioni che lì vengono erogati non hanno nulla a che vedere con le esigenze di sicurezza con le quali vengono presentate ma sempre colpito dalla prima volta che ci sono andato il problema delle riviste pornografiche quindi anche un atteggiamento moralizzante e moralizzatore che non ha nulla a che vedere col principio o fra virgolette rieducativo del carcere io penso che i tempi sono maturi per una riflessione collettiva un po' più libera su questo tema vedo che negli ultimi anni c'è più interesse e credo che spalancare le porte del carcere raccontare il carcere a quelli che stanno fuori sia l'unico strumento possibile per fare in modo che questo mondo che fa parte a tutti gli effetti della nostra società e della nostra comunità e che noi dobbiamo considerare parte della nostra comunità sia un mondo finalmente su cui si accendano i riflettori è evidente che iniziative come quella di oggi sono iniziative preziosissime da questo punto di vista e chiudo la mia piccola testimonianza vi ringrazio naturalmente sono sempre disponibile per altre occasioni come questa grazie 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 Alessandro per aver colto il nostro invito per il tuo bellissimo intervento anche per la sintesi che veramente non è da tutti grazie grazie adesso passiamo la parola all'altro attivista straordinario Marco Costantini del Partito Radicale nonché anche grande scrittore Marco ci senti devi attaccare il microfono a posto si vede ti vediamo ti sentiamo avevo fatto una cosa un po' lunga ma devo accorciare moltissimo allora innanzitutto l'appello che ha fatto Elisa mi trovo veramente d'accordo non serve forzare un cambiamento con lo sciopo della fame con lo sciopo della fame corrisponde non so che è questo mi senti? ci senti? ci senti? adesso sì era un disturbo l'abbiamo tolto l'abbiamo tolto l'abbiamo tolto l'abbiamo tolto perché sono a legge un po' di cose e ci sono questi sei anni fatti in alta sicurezza che ha fatto un rapporto epistolare con dei personaggi anarchici e per questo è scattato il 41 bis ma a parte questo che è una storia legale che non voglio entrarci ho sentito molte cose e l'avvocatessa Calia che conosco è stata veramente quella che mi ha più colpito perché il 41 bis è nato come esigenza temporale di quel momento per fermare mafie è terrorismo doveva durare tre anni ce l'abbiamo ancora oggi con una legge che passa questo decreto che passa la legge nel 2002 e questa è una tortura in più per la pena detentiva perché se noi pensiamo che l'articolo 27 della Costituzione ha cambiato il volto alla finalità della pena ma non ha cambiato il carcere cioè questo è fondamentale basti pensare che l'entrata in vicolo della Costituzione e la riforma penitenziaria sono passati 30 anni come può essere allineata alla Costituzione c'è qualcosa che non vedo nella direzione giusta il fatto che noi ne parliamo diciamo che siamo sempre noi perché pure adesso io sto andando in una riunione per i detenuti per una cosa che stiamo cercando di fare in essere bisogna che questi discorsi vengono fatti in altre sedi cioè con la tutti devono capire che cos'è il 41 bis il 41 bis è la tortura dello Stato a una pena che si sta espiando bisogna cominciare a chiamare le cose con nome perché quando succede un suicidio dicono suicidio quello è un omicidio di Stato perché il detenuto quando viene preso in carcere viene preso in consegna è sotto la tutela dello Stato non ci sono altre parole le parole hanno un significato importante se io vengo arrestato io ho fatto 19 anni non un giorno io per 19 anni sono stato in custodia dello Stato dove non ha rispettato manco un diritto di quelli che mi aspettavano ma ero in custodia dello Stato perché il 41 bis serve a che fare che i pentiti non ci sono più oppure se chi si penta racconta storie e favette soltanto per poter prendere i benefici ma poi in sostanza non c'è più niente a cosa serve oggi il 41 bis serve veramente a poco a poco serve soltanto invece una sezione super protetta e poi scappano dal beccaria cioè sono queste le contraddizioni del mondo del carcere il carcere è pieno di buche ha delle falle enormi in ogni situazione il governo Meloni come si è insedata ha fatto già due cose importanti per far capire che per lei la giustizia è un'altra cosa ha levato i fondi alle persone che lavorano all'interno degli istituti perciò avranno meno educatori meno psicologi avranno meno di tutto e ha attenuto il 41 bis cioè queste sono cose che danno dei segnali importanti la società oggi è pronta per capire che una persona detenuta è una persona cioè questo dobbiamo capire se una persona detenuta è una persona devo essere trattata come persona non una tortura in più perché il 41 bis è una tortura in più io ho fatto un solo colloquio al 41 bis diciamo come struttura ma non stava al 41 bis questo avrà essere chiari perché ha un altro tipo di sofferenza ma con un vetro e un telefono io ho fatto un colloquio di 40 minuti ed è stata una cosa orribile non poter abbracciare le tue figlie non poter sentire il calore della tua mamma oppure della tua compagna tu parli per il telefono per 41 ore per cioè sempre controllato viso controllato questo è il 41 bis che c'è in Italia oggi ha più ragione di esserci oggi il 41 bis a queste condizioni il terrorismo non c'è quasi più sì c'è qualche nottab c'è qualche anarchia ma non c'è più la lotta delle brigate rosse e degli altri nudi che c'erano negli anni 80 in Italia la mafia è ancora peggio di prima che cosa è cambiata la mafia non c'è più Totorrina ma ci sono altri personaggi la mafia è sempre quella non si combatte con il 41 bis il 41 bis era un deterrente all'inizio infatti doveva avere una unità di tre anni siamo dal 92 siamo al 2022 ancora c'è il 41 bis in Italia io l'ultima cosa ho scritto altre cose però questa qua mi piace dirla perché questo ragionamento che ho fatto in questo percorso che il 41 bis si muove all'interno delle contraddizioni del sistema giuridico che contengono elementi utili a comprendere che al di là del caso specifico cioè di Alfredo la linea di tendenza generale dell'operato di una magistratura sempre più allineata alle crescente necessità repressive del sistema sociale di cui è ministra la giustizia che si esprimono con sentenze esemplari per la loro brutalità ecco questo si può chiamare paese civile il 41 bis è fa parte della nostra Costituzione i giudisti dovrebbero cominciare a fare questa domanda se il 41 bis rispecchi la Costituzione ci sono le sentenze della Corte Costituzionale che dicono di no e come mai in Italia ancora esiste cioè questo dovrebbero fare dovrebbero fare le persone che hanno la loro storia per poter affrontare questo discorso perché noi come semplici militanti quello che stiamo facendo oggi è un segnale importantissimo stiamo facendo sapere a tutti che si parla del 41 bis in questo caso del caso specifico di Alfredo che non rientra nei miei canoni né politici però è il 41 bis come può essere un'altra persona di Napoli o di Catanzaro o della Sicilia cioè il 41 bis fa parte della Costituzione italiana secondo me no secondo me no perché il 41 bis è solo tortura è una tortura in più alla pena ma se ho già sogno in espiazione di pena perché devo fare anche la tortura nella pena cioè queste sono le domande che ci dobbiamo porre poi al di là del fatto specifico il perché lui ci sia finito là o perché un'altra persona ci sia finita al 41 bus a me mi interessa poco questo è un giudice che decide io parlo se il 41 bus è proprio il regime dopo 30 anni ancora rientra nei cardini della Costituzione italiana secondo me no ed è orla di cambiarla io ringrazio tutti un abbraccio forte e saluto gli ex detenuti che sono che poi ex detenuti è proprio una parola brutta sono persone sono per non siamo non sono ex detenuti io sono Marco Costantino una persona che ha fatto un errore che ha pagato nella giustizia perciò non voglio essere un ex detenuto ma voglio combattere insieme ai detenuti affinché il 41 bus decade e possa tornare un paese civile quello nostro grazie un abbraccio e buon anno a tutti quanti grazie un bellissimo intervento grazie anche per aver fatto il sacrificio della sintesi su quello che avevi scritto ti abbracciamo forte e ora passo la parola a un bravissimo giornalista italiano un giornalista d'inchiesta di quelli coraggiosi indipendenti come ormai ce ne sono pochi Marco Gregoretti buongiorno a tutti grazie intanto di avermi dato questa questo spazio perché poi dopo gli ultimi due interventi che ho sentito sono collegato da poco di Gramiccioli e di Costantini mi si è rimesso in moto tutto un meccanismo di sensazioni mentali e anche di emozioni io sono un giornalista quindi di queste cose mi sono occupato come giornalista ho fatto diverse inchieste sulle carceri articoli interviste ho intervistato persone in carcere ho intervistato diciamo operatori amministratori della giustizia e mi sono occupato anche dell'altra dell'altra parte diciamo gli operatori di polizia penitenziaria perché in carcere stanno male tutti e gli uni e gli altri stanno male e sembra quasi un un perenne 41 bis no? perché in effetti quello che diceva Costantini adesso in sintesi uno ha fatto un errore ha pagato è stato privato del bene più prezioso la libertà tutto il resto sembra una vendetta dello Stato una un di più inutile qualcuno mi sembra tra i primi interventi stamattina ha citato la politica mi sembra che ne abbia parlato Riccardo Sindoc ha detto che è anche un problema politico non è solo diciamo un problema di codici e di leggi è anche un problema di gestione politica secondo me su due livelli c'è una politica alta che dovrebbe riprendere in mano tutta questa partita noi andiamo su Giove ci mettono i microchip in testa e siamo ancora fermi a Beccaria oggi tristemente famoso per l'evasione dei sette ragazzi che probabilmente sono scappati da una situazione inumana e quindi però siamo ancora fermi siamo fermi al carcere al carcere concepito come concepito e poi c'è un problema di politica spicciola io ho la sensazione e questo lo dico come persona che ha acquisito elementi dal suo essere giornalista che la politica sia totalmente staccata dalla realtà i 41 bis l'ergastolo stativo sono totalmente staccate dalla realtà perché intanto la mafia è stata sconfitta no la mafia ha tra virgolette migliorato la propria penetrazione chi li becca più adesso no chi li becca più quindi il 41 bis è servito soltanto in certi casi ad aumentare l'astuzia della mafia e ad aumentare la rabbia e la voglia di vendetta dei detenuti perché questo è passare tutto il tempo di detenzione su una panca da solo col tavolo piantato per terra senza poter mi sentite mi sentite per cui insomma io non vedo questi grandi risultati mi sembrano abnorme le decisioni prese certo c'è la legge Gramiccioli che ha fatto un intervento equilibratissimo mi sarei aspettato invece è stato veramente chiaro e molto equilibrato ma voglio dire la legge prevede che il povero cospito subisca quello che sta subendo ma è una legge è una cosa abnorme che cosa ha fatto io non ho ancora capito che cosa ha fatto ha fatto del male a qualcuno cioè ergasto lo stativo 41 bis perché per cosa cioè questo che dico che sembra che a un certo punto lo Stato come dire si assuma la veste di vendicatore solitario contro contro esprimendo una forza anche fisica contro i deboli e magari rimanendo un po' più debole verso verso i forti io mi sono occupato in questi giorni mi sto occupando della vicenda del del beccaria perché c'entra in pieno è giusto è giusto non si può considerare tutta questa partita staccandosi dal problema delle carceri le carceri sono sono tutte del 41 bis cioè un giorno è un ergastolo dentro le carceri italiane allora il è vero sono scappati i sette ragazzi o diciamo o l'idea dietro logica forse il vizio del giornalista di inchiesta e forse la speranza sotterranea che quasi quasi siano scappati apposta per accendere un riflettore su quella che è la situazione di un di un istituto di pena che era nato come come diciamo punta di diamante dell'applicazione rieducativa riabilitativa del carcere che è diventato un cantiere a cielo aperto da vent'anni con persone di 25 anni che stanno lì dentro con 10 15 detenuti in più rispetto alla potenzialità ricettiva di questo carcere senza il direttore senza ecco cioè quando quando nel 1968 o 69 entrarono dentro alcuni della banda della Comasina che diventarono poi della banda della Comasina trovarono un albergo no? Trovarono un albergo e quindi alcuni di loro non volevano più andarsene perché sembrava in realtà in realtà diciamo che non ha poi non ha poi ottenuto il risultato che che si era che si era prefissato cioè il carcere minorile il carcere degli adulti io non so come sono nei tempi ancora un minuto sono 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 realtà che che andrebbero veramente riprese e rifatte da zero perché non è possibile c'è proprio un doppio binario è una gestione bipolare c'è una una stanza una stanza dei bottoni astratta che fa delle pensate diciamo legislative giuridiche e c'è una realtà dove sono assolutamente inapplicabili al di là di una questione di principio di civiltà sul sul 41 bis c'è proprio un discorso veramente diventa buffo cioè le nozze con i fichi secchi con queste carceri non si può applicare nessuna legge non si può pensare che un ragazzo che entra a 15 anni al Beccaria non diventi poi dopo il futuro leader di una banda perché lì soltanto quello può imparare a fare in quella situazione di rabbia crescente di rabbia crescente dei detenuti e di rabbia crescente anche degli operatori di polizia giudiziaria perché devo spezzare anche una lancia cioè io mi sono occupato anche di loro cioè sono decarcerati in qualche modo anche loro fermo restando che quello che è successo durante il covid è una roba da stato sudamericano però stanno male tutti cioè loro sono dei 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 carcerati stipendiati dallo stato in definitiva che hanno che hanno il compito come dire di controllare con le buone con le cattive degli altri carcerati personalmente io davvero per ritornare a quello che ho detto all'inizio noi andiamo su Giove ci mettiamo al microchip abbiamo ancora un sistema carcerario che è pre un sistema non solo carcerario ma anche di amministrazione della giustizia che a volte sembra pre illuminista grazie grazie Marco e questo lo voglio dire ce ne fossero di giornalisti come Marco Gregoretti in Italia io lo stimo tantissimo adesso do la parola a un altro giornalista coraggioso che io stimo molto il mio amico Riccardo Colau che è direttore di un quotidiano indipendente online che si chiama l'italiano quotidiano nazionale indipendente ed è anche uno dei soci fondatori della nuova associazione riforma giustizia per la tutela dello stato di diritto in Calabria che abbiamo appena tirato su con alcuni amici come Enrico Seta Enza Bruno Bossio Otello Lupacchini che saranno più o meno tutti presenti oggi a te Riccardo la parola Riccardo ci sei? Riccardo Colau ti vedo connesso tocca a te parlare devi attivare l'audio aspetta che mando un messaggio Riccardo ti ho chiamato a parlare parlare accendi accendi microfono ok hai visto il messaggio su whatsapp quindi ecco ti qua Riccardo ciao 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 ben trovati grazie anche per questa opportunità che offri per parlare di questa tematica di questo problema mentre ascoltavo gli interventi degli altri amici e colleghi facevo due riflessioni la prima è che il carcere dovrebbe in qualche maniera dare la possibilità a chi ci entra di poterne uscire ritornando quella pietra che poi serve a costruire insieme alle altre persone il muro della solidarietà umana e della partecipazione attiva ma se nell'ambito di un procedimento attraverso cui un detenuto è stato condannato all'ergastolo già questa posizione non ammette che la persona possa essere in qualche maniera recuperata perché è destinata a rimanere tra quattro mura del carcere carcere poi che diventa più duro o meno duro a seconda delle condizioni che vengono riservate al detenuto nel caso del 41 bis il detenuto può avere delle agevolazioni soltanto se si pente ma una persona che viene condannata e che quindi deve fare questo processo di riabilitazione comunque a mio avviso è una persona che è già destinata a doversi pentire di quello che ha fatto perché si trova recluso e quindi ha tutte le possibilità per potersi dedicare a questo processo di riabilitazione interiore ora cosa succede che col 41 bis e con le leggi che in Italia vengono sempre affidate all'abilità di chi poi le deve gestire e quindi anche di interpretarle consente a detenuti che si trovano magari in un carcere di poter avere delle agevolazioni e le stesse agevolazioni non possono essere concesse ad altri detenuti che si trovano in altri istituti di pena tutto questo non è giusto non è concepibile in una nazione moderna quale vuole essere l'Italia e quindi è giusto che il problema venga affrontato e soprattutto che ci siano più voci in capitolo per dare la possibilità al legislatore di provvedere e quindi eliminare questo 41 bis che sostanzialmente aggiunge sofferenza sofferenza è una cosa veramente aberrante devo dire che non mi era capitato ancora di occuparmi di una cosa del genere e quindi dopo aver approfondito l'argomentazione ho ritenuto di esprimere questi concetti a vantaggio di quello che può essere lo sviluppo di questa situazione di questa battaglia che tu stai portando avanti attraverso questa maratona radiofonica e quindi io credo che sostanzialmente ci sia la possibilità che si pervenga a una rettifica e a una migliore interpretazione se non a una esclusione di questo articolo 41 bis che ai tempi d'oggi è veramente qualcosa di prepotente ed è un articolo che sostanzialmente mortifica sia la persona umana sia anche stata un delinquente nel caso di particolare bisogna ricordare che quest'anarchico non ha ucciso nessuno che non si è macchiato diciamo se non di reati politici e quindi sostanzialmente non dovrebbe aver avuto l'applicazione dell'articolo 41 in ogni caso io ritengo che sia una battaglia giusta e quindi concludo qui il mio intervento magari lasciando più spazio ad altre persone che potranno aggiungere qualcosa in più di quello che io non abbia potuto o saputo dire con questo breve intervento grazie grazie al mio amico Riccardo grazie di cuore adesso passiamo la parola a una cara amica che è stata compagna di battaglia dei radicali per quando ci fu lo sciopero della fame di Paolo Signorelli vittima di un caso giudiziario infinitamente ingiusto e vi presento Antonella Bellucci Antonella ti chiedo di attivare l'audio perché non ti sentiamo devi accendersi il microfono devi accendere il microfono chiedi di attivare l'audio e in basso sinistra dovresti avere il microfono da accendere ecco allora intanto grazie a voi grazie a Delfina grazie a Umberto per questa iniziativa a cui partecipo convintamente perché per me non esistono in questi casi delle barriere politiche di appartenenza del passato del presente trovo che la solidarietà che si debba esposito è non solo doverosa ma è naturale è naturale come si sarebbe dovuta avere sempre negli anni verso tutti coloro che hanno subito la protergia di uno Stato che era forte in quanto aveva paura per cui tutti coloro che sono stati ribelli durante gli anni durante i decenni hanno subito poi delle prevaricazioni che non hanno niente di civile sì io ho fatto lo sciocro per la fame per Paolo che era un carissimo amico e insieme però a Paolo e ad altri radicali purtroppo della mia età voi siete molto più giovani abbiamo fatto altre cose con giustizia giusta proprio per affrontare certi temi che erano spinosi sia per una destra che per una sinistra istituzionali e quindi che pensavano al al pensiero corrente più che a quello che era la il bene del detenuto io questa mia solidarietà che do ad esposito volentieri e che spero che venga seguita da migliaia di persone non da poche perché è un fatto di civiltà e di giustizia la voglio allargare nel ricordo a quelli che sono stati suicidati in carcere tanti per esempio negli anni di piombo da una parte e dall'altra dal punto di vista diciamo del credo ma ammazzate all'interno delle proprie celle ricordo il fatto di due persone di idee opposte che erano in isolamento in un carcere dell'Italia centrale e che uno di era delle brigate rosse e fu suicidato e avevano fatto amicizia nonostante il muro avevano fatto amicizia nonostante differenze uno il martedì fu ucciso e nessuno ha pagato dopo qualche giorno il suo vicino fu massacrato di bonte e umiliato in tutti i modi che uno può immaginare tanto che le lesioni che ha riportato sono rimaste nel tempo sia psicologiche che fisiche sono cose che sono capitate a tanti però sono emblematiche perché per nessuna delle due gli operatori dello Stato che erano all'interno delle parceri hanno pagato nessuno è stato condannato ci sarà stato un motivo ebbene ci sarà stato io non riesco a farmene una ragione perché questi sono stati due casi particolarmente noti a me ma ce ne sono stati molti altri allora quello per cui io lo faccio è per loro e lo faccio per i comuni che non hanno santi in paradiso lo faccio per quelle mamme e quei padri che sono carcerati e che non possono seguire i figli non possono avere rapporti con loro penso è l'ultimo provvedimento stavo sentendo è un paio di interventi di prima del governo attuale non me ne frega niente lo dico subito del governo di destra e sinistra per me pari sono per cui non c'entrano ma il fatto di elevare la possibilità del lavoro ai detenuti oltre che dargli il modo di guadagnare qualcosa a sentirsi utili a se stessi e fargli mantenere la dignità e anche poter mandare qualcosa a casa levarvi questo e levarvi un modo di voler continuare a vivere e quando penso a questo penso anche a quello che ha fatto lo stato italiano durante gli anni con i braccetti che se voi ricordate che cosa sono quelli grandi come a me se lo ricordano erano delle barri di cemento da cui il detenuto poteva uscire soltanto un'ora al giorno stando da solo non avendo nessun tipo di rapporto né con i parenti né con gli altri detenuti né niente da leggere niente quindi cercavano di portarli alla pazzia persone che ci sono state anni dentro finché la corte europea ha proibito all'Italia di continuare quest'arma di tortura ecco perché io continuo faccio oggi in contemporanea questo intervento il mio giorno di digiuno che non è assolutamente niente ma che continuerò sicuramente a usare insieme ad altri finché non raggiungeremo la possibilità di levare questo queste forme così restrittive a a il posito e a tutti gli altri che ci sono e che non verrà ristabilito uno stato di diritto uno stato di diritto che per i detenuti lo è ancora di più perché sono quelli più fragili sì qualcuno o tanti avranno sbagliato tanti saranno andati contro le leggi dello stato ma quando lo stato arriva a fare della tortura psicologica e fisica un'arma evidentemente è uno stato che ha perso è uno stato che è debole ha paura è uno stato che ha paura è uno stato pericoloso quindi non ci importa niente chi è deputato chi è senatore chi è presidente del consiglio è la diciamo è la il senso interno del termine stato ha un senso continua ad averlo o forse non riesce ad adeguarsi a quelle che sono le esigenze sia delle persone fragili fuori che ce ne sono milioni e lo sappiamo tutti sia le persone sono fragili dentro perché non hanno diritti e non è che se uno ha commesso il reato non deve avere il diritto di una vita dignitosa per cui io non non mi dilungo ho sentito interventi di giuristi di giornalisti eccetera che ho apprezzato moltissimo questo è semplicemente una testimonianza di una che si mette a disposizione tutto qua io vi ringrazio è stato un onore ascoltarti e averti qui con noi ascoltare la tua testimonianza che adesso mi asciugo gli occhi ti abbraccio no si suoglie il trucco scherzi siamo donne dai grazie 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 Antonelle sei straordinario è stato veramente molto bello averti con noi per me è stata una cosa importante e ne approfitto per lanciare un saluto al nostro comune amico Mario Tutti che non ci starà ascoltando perché starà lavorando nella comunità però anche lui l'ergastro lo conosce bene e le sue le sue storie sarebbe da raccontare anche le le piccole miserie dei giudici di sorveglianza no le licenze quando invece ne avrebbe avuto ogni diritto però si va avanti tutti buon lavoro ragazzi buon lavoro ne approfitto Marco Gregoretti mi scriveva una cosa le segnalo ma dice che si è dimenticato di esporre una cosa importante che voleva dire come giornalista e secondo me è significativa quindi la leggo cioè il 41 bis è anche un modo per tappare la bocca dei tenuti che magari avrebbero da raccontare qualche cosa di imbarazzante ecco questo mi sembra uno stimolo uno spunto di riflessione interessante io voglio anche ringraziare tutti perché siamo riusciti a recuperare la mezz'ora di ritardo adesso abbiamo solo cinque minuti al posto di mezz'ora avete fatto miracoli grazie per essere stati capaci di sintetizzare passo la parola proviamo sempre a rimanere così per non riaccumulare mezz'ora a un grandissimo avvocato un penalista di lunghissimo corso di Napoli un maestro Antonio Del Vecchio Buonasera a voi tutti nessuno può essere maestro che non di se stesso mi sentite? ci sentiamo sì sì buonasera a voi tutti io aderisco convintamente alla vostra iniziativa fosse altro perché hai il pregio di accendere i riflettori su una questione solo apparentemente di nicchia ma che in realtà riguarda la dialettica come qualcuno ha detto tra individuo ed autorità dello Stato che costituisce lo snodo essenziale che consente di distinguere tra democrazie effettive e quel fenomeno ormai tristemente noto che si sta affermando sempre di più che sono le democrazie illiberali e cioè vale a dire quelle organizzazioni statuali dotate di costituzioni liberali che consentono tutte le possibilità teoriche di accesso alla tutela dei diritti ma che in realtà nel concreto come dire mortificano l'individuo a vantaggio dell'autorità dello Stato ora io credo che in questo tornante della storia noi siamo nel pieno di questa involuzione del nostro sistema e non a caso la giustizia penale il sistema processuale che da sempre come qualcuno ha detto ha costituito uno spaccato di medioevo incuneato nella modernità perché a leggere il codice penale ancora di marca fascista si comprende come dalle retrovie della storia ci arrivano ancora come attuali delle ipotesi punitive che non dovrebbero essere compatibili con la modernità ma qual è il problema fondamentale è che noi non siamo capaci di liberarci in maniera definitiva di una grande ipocrisia a mente della nostra costituzione la carcerazione la pena serve per riabilitare per rieducare nella dinamica quotidiana nel concreto il 41 bis ne costituisce la rappresentazione probabilmente più dolorosa la pena è ancora una modalità di segregazione è ancora concepita come una forma di difesa sociale tanto che le carceri oggi e l'analisi che per esempio l'associazione Nessuno Tocchi Caino altre associazioni ogni quotidianamente l'associazione Antigone quotidianamente restituiscono ce lo rappresentano sempre più come la più odiosa discarica sociale che la modernità abbia conceduto quindi perché ci dobbiamo liberare di una di un grande paradosso perché ponete mente per esempio al fatto che se la pena serve per la riabilitazione ed essi rende compatibile con la nostra costituzione tutto questo già dovrebbe rendere incompatibile modalità di esecuzione della pena che sono effetti soltanto sostanzialmente deputati alla segregazione che sono degli strumenti di difesa sociale io ti elimino o ti separo dal corpo sociale per evitare che la tua pericolosità possa innescare fenomeni antisociali oppure possa realizzare attentato alla libera autodeterminazione di altri individui questo può valere in alcuni momenti ma la costruzione di una narrazione soprattutto la edificazione di un'istituzione che diviene stabile come il 41 bis su questi presupposti voglio dire evoca situazioni da democrazie illiberali guardate non è il problema della di approntare una particolare sorveglianza nei confronti dei detenuti perché questo appartiene alla prioritaria ragione di Stato ma quando a questo si accompagnano modalità che sono odiose alla razionalità pura come per esempio l'impossibilità di cucinarsi un cibo l'impossibilità di leggere un libro l'impossibilità di guardare un film questo significa che vi è qualcosa di oltre che si situa fuori dalla dimensione di una corretta dialettica individua autorità dello Stato e deraglia verso forme odiose di abeas corpus e di come dire addirittura di modalità di soverchiamento degli individui la vicenda cospito che voi come dire ponete nell'incipit della vostra è emblematica di un altro problema che ci riporta a questo medioevo prossimo venturo ai noi che è il sistema della giustizia penale oggi in Italia cospito è condannato per il classico delitto di attentato il delitto di pericolo e cioè un giudice che attraverso la esegesi di ciò che avviene nei più profondi e innestricabili meandri della psichia umana stabilisce che il tuo dolo è finalizzato ad attentare alla pubblica incolumità e anche alla personalità dello Stato ergo tu hai se fai esplodere un petardo realizzato niente di meno che il delitto di strage politica e quindi la pena è l'ergastolo ora sarebbe troppo complesso come dire approcciare in dieci minuti questo problema ma vi pare ma vi pare che un dispositivo giuridico di questo tipo che viene pronunciato sotto la scritta che campeggia nelle aule di giustizia la giustizia amministrata nel nome del popolo incontri il sentimento di equità del popolo già questo come dire rende la ragione la cartina di tornasole delle oceaniche problematicità che abbiamo io mi vorrei congedare da questa importante manifestazione con una riflessione molto molto rapida se il diritto penale sta alla democrazia come un individuo sta allo stato ogni quavolta ha la possibilità di autodeterminarsi anche realizzando un sano antagonismo dello stato non vi è possibilità alcuna bisogna rimboccarsi le maniche bisogna avere il coraggio di ripensare il sistema bisogna disfarsi del codice rocco bisogna cominciare a criticare il totem del giudicato come evento intangibile unico fra le vicende umane pronunciato venti anni prima e ancora intangibile venti anni dopo e bisogna costruire aprire la modernità nella dialettica sana individuo autorità anche alle aule di giustizia anche al processo penale per scongiurare quel fenomeno del quale parlava anche il professore Maiello la percezione di una liturgia oscura distante dalla sensibilità collettiva questo è il processo per chi vi si approccia da profano che fa il paio con il cattivo funzionamento di tutte le istituzioni democratiche che dovrebbero garantire il cittadino e che quindi contribuisce a rendere oscuro inquieto incerto questo tornante della storia e ci come dire ci fa dubitare di essere ancora nel pieno della vigenza della nostra bella costituzione democratica grazie a voi grazie a coloro i quali partendo dei diritti degli umili tengono alta e dritta la bandiera dell'autodeterminazione degli individui contro il possibile sopruso dello stato apparato perché c'è solo una parola d'ordine che può accomunare gli uomini di buona volontà ovunque situati e nonostante le diverse inclinazioni culturali e la libertà la libertà non propria ma la possibilità di garantirla agli altri soltanto questo ci fa diversi dallo stato di ferimità soltanto questo ci fa uomini con la possibilità di contribuire per il miglioramento dei propri simili io credo che questo sia il senso delle battaglie che voi fate delle battaglie che fanno le associazioni di tutela dei detenuti e soprattutto sono le battaglie che dovrebbero compiere gli uomini di buona volontà perché oltre e se come dire regredisse questa visione questo anelito oltre ci sarebbe soltanto uno stato repressivo una impossibilità come dire di realizzare una corretta sana dialettica individuo autorità dello stato insomma saremmo nel pieno di quella fenomenologia triste e Dio non voglia si insedi anche da lui che è quella che Eisenbach che è un pensatore israeliano chiama appunto le democrazie illiberali io voglio una democrazia liberale effettiva la voglio per tutti anche e soprattutto per gli umili non voglio che vi sia nessun potere che possa prevaricare l'autodeterminazione dell'individuo se non in forza di una legge legge che però deve incontrare nella sua interpretazione il sentimento di equità del popolo perché quella è la legittimazione di ogni tipo di potere vi ringrazio vi saluto vi auguro buon lavoro e come dire sempre impegnati nella lotta grazie grazie infinita per questo bellissimo appassionato intervento adesso ascoltiamo una delle voci più belle più pure più autorevoli più struggenti del garantismo e della lotta a 41 bis che è la nostra amatissima Maria Brucale mamma mia che presentazione Lisa e non ho neanche detto che sei la mia candidata al Quirinale va bene così io vi saluto grazie grazie sempre per la vostra preziosissima presenza in tutte le occasioni nelle quali serve che si alzi la voce per lo stato di diritto io non sono follemente appassionata alla vicenda di cospito ve lo confesso però credo che sia uno spunto per tornare a parlare di un tema che per me è carissimo e ineludibile che è proprio quello della lotta a 41 bis a tutti i regimi ostativi e all'ergastolo ostativo che va detto ora non dovremmo chiamarlo più ergastolo ostativo perché brutta bruttissima orribile terrificante una legge che consente in astratto a tutte le persone di accedere ai benefici penitenziari adesso esiste e sebbene sia apertissimo il terreno di lotta anzi più che mai più che mai fertile oggi va detto che questa è una battaglia vinta perché adesso a fronte del fine pena mai e poi mai che c'era prima del 31-12 9-9-9-9 senza speranza alcuna oggi comunque c'è una rete di legiucole di cavilli infiniti e mortali nelle quali se con la buona volontà di tutti i protagonisti della giustizia si riesce a camminare è possibile per qualunque detenuto per qualunque reato accedere a uno spiraglio di libertà e questo sicuramente è un successo che ci coinvolge tutti perché tutte le voci che sono alte da sempre contro questo scempio del diritto possono in qualche modo come posso dire erogarsi questa questa piccola grande grande vittoria ora parlando del 41-bis io credo che che debba essere abolito questo lo sapete lo credo lo credo da sempre e naturalmente lo stato ha il diritto il dovere di proteggersi e di proteggerci da fenomeni criminali che possono essere permeanti nello stato che possono essere pericolosi per le persone che possono essere in qualche modo stilla di violenza ma il sistema dovrebbe essere secondo me quello di individuare all'interno dei circuiti ordinari del carcere delle maglie di sicurezza particolari perché invece sappiamo bene che oggi il 41-bis è invece un regime completamente privativo che si traduce nella negazione assoluta della persona dell'essere umano negando i rapporti affettivi negando la socialità negando il lavoro negando qualunque opportunità di riabilitazione oggi questa cosa è diventata ancora più struggente perché sappiamo bene che il 41-bis nasce nel 1992 all'esito delle terribili stragi ed è un momento nel quale il rumore delle bombe è talmente forte e talmente alto che lo Stato perviene a un punto a quale mai dovrebbe arrivare cioè quello del fine che giustifica i mezzi e quindi va bene tutto perché quel fenomeno è talmente orribile in quel momento talmente chiassoso talmente feroce che va combattuto con ogni mezzo per cui si dà vita a questa norma che già nel suo imminente esprimersi dà conto a coloro che se ne occupano al Parlamento di quei tempi del fatto che sia una norma apertamente vistosamente incostituzionale perché? perché sospende di tutto e in parte il trattamento detentivo ordinario ora è chiaro a tutti che sospendere il trattamento significa sospendere la possibilità del detenuto di accedere alla riabilitazione alla rieducazione e quindi è chiaro è incostituzionale tanto che il Parlamento del Tempo stabilisce che possa avere una vigenza di massimo tre anni quella norma lì e invece a quanto pare a quanto scopriamo a quanto sappiamo quella emergenza si ritiene di volta in volta da prorogare fino a quando nel 2002 la norma diventa ordinamentale diventa immanente e nel 2009 viene anche peggiorata ristretta arricchita di nuovi cavilli viene stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza di Roma proprio perché non ci possano essere contaminazioni giurisprudenziali che tendono o si traducono in una qualche apertura e dicevo oggi è ancora più cruenta questa violazione di legge perché in questo decreto legge che ha determinato la fine dell'ergastolo stativo cioè il numero 162 del 2022 quello che ha che hanno denominato proprio per resistere ad ogni pulsione di vita costituzionale e liberale dello Stato di diritto l'hanno denominata divieti di concessione delle misure alternative quindi non apertura alle persone condannate per quei per quei reati ma l'hanno denominata divieto ecco in quella norma lì si esclude espressamente che le persone detenute in 41 bis possano accedere a qualunque momento trattamentale esterno quindi sebbene nella precedente giurisprudenza di legittimità si fosse detto con chiarezza che nessun detenuto neppure al 41 bis potesse avere una preclusione totale e assoluta perché perché appunto mentre per il 41 bis giudica il tribunale di sorveglianza di Roma ogni ristretto in qualunque posto si trovi deve aver diritto alla frequentazione assidua del proprio magistrato di sorveglianza che ne vigili il percorso che ne valuti il trattamento che ne valuti la progressione trattamentale ecco invece il regime per le persone in 41 bis è disegnato in modo che la progressione trattamentale non esista affatto perché i magistrati di sorveglianza dei luoghi in cui si trovano non avendo mai contezza di un rapporto di una relazione che queste persone ristrette hanno con il personale a ciò deputato gli educatori gli psicologi i criminologi le direzioni del carcere non hanno mai strumenti sostanzialmente per valutare il vissuto di queste persone per verificare che siano in qualche misura protagoniste di un piccolo o grande cambiamento ecco quindi questo è un passo importantissimo che si deve fare cioè restituire alla persona detenuta anche in 41 bis il percorso trattamentale perché se non hanno la possibilità di un dialogo costante con gli operatori del carcere saranno perfettamente inalveati in quello che la corte europea nella sentenza viola contro Italia ha definito come un trattamento inumano e degradante perché perché ci ha detto la sentenza viola contro Italia lo stato qualunque stato ha un dovere positivo di offrire a qualunque ristretto un percorso di riabilitazione ecco quelle persone lì invece quelle in 41 bis sono sottratte sostanzialmente da sempre ci sono persone in 41 bis dal 1992 significa che hanno maturato un tempo ben superiore a quello che consentirebbe loro di accedere alla liberazione condizionale sono da sempre sottratte all'offerta trattamentale non hanno il cosiddetto programma di trattamento che viene firmato dal magistrato di sorveglianza per disegnare loro un'alternativa di vita possibile e quindi sono semplicemente sepolte chiuse murate vive in quel regime senza alcuna ambizione e aspirazione di recupero e questo ben al di là dell'ipotesi che collaborino o meno con la giustizia quindi se è vero che quello è stato uno strumento forse quando è nato nel 1992 utile interrompere un fenomeno di particolare ferocia è altresì vero che oggi dopo 30 anni da quel momento la realtà è completamente cambiata le mafie non sono tutte uguali le organizzazioni terroristiche non sono tutte uguali bisognerebbe tornare a una dimensione di carcere rapportato all'essere umano uno uno e unico quindi fin tanto che questo non si verifica il carcere qualunque carcere in realtà in qualunque settore della sua ferocia appunto perché sappiamo bene che si passa da regimi ordinari a regimi nei quali invece la carcerazione è soltanto crudele negazionista e privativa ecco in tutte queste occasioni bisognerebbe tornare all'essere umano nella sua evoluzione che sappiamo bene come ci dice come ci ricorda la corte di Strasburgo che l'essere umano è accompagnato dal tempo il tempo è il grande scultore che modifica le vite che modifica le vite dentro al carcere e quelle fuori dal carcere e io chiudo tornando all'amico Antonio che mi ha preceduta che faceva riferimento a quanto si legge nelle aule di giustizia che viene pronunciata una sentenza in nome del popolo italiano e quindi sentiva una sorta di distonia rispetto a questo sentire del popolo italiano io in questo ammiro il suo ottimismo e gli voglio bene lui lo sa però temo invece che tutto questo modo il diritto penale simbolico il panpenalismo la chiusura assoluta verso le opportunità da dare i detenuti la mancanza di attenzione per le loro vite anche a fronte di un dramma dei suicidi così esplosivo sia proprio l'espressione del sentire del popolo che troppo spesso si gira dall'altra parte troppo spesso è felice quando una persona afflitta da una sfortuna venga incancrenita in quella sfortuna noi invece dobbiamo lavorare in una direzione diversa che è quella dell'informazione è quella della conoscenza per cui è preziosissimo quello che fate e quello che facciamo perché andare nelle scuole parlare alla gente dare spazio a queste vite che sono invece volutamente eliniate è la nostra occasione per fare della nostra società un posto migliore grazie grazie ancora grazie infinite Maria Brucati il tuo intervento grazie sei sempre potente bravissima grazie infinita un secondo un avviso alla regia di Radio Radicale che sono qua connessi e spero mi sentano perché magari sono connessi ma in questo momento non stanno sentendo cioè sembra che per qualche motivo ho verificato anch'io la diretta sulla TV di Radio Radicale si sia interrotta è bloccata non sta funzionando quindi non so se potete verificare vi ringrazierai moltissimo magari risolvere il malfunzionamento fine della segnalazione di servizio passo la parola al nostro amico giornalista blogger studioso di radicalismi politici Ugo Maria Tassinari Ugo ci sei? devi attivare l'altoparlante ti vedo connesso eccoti qua Ugo prova a parlare vedo che hai attivato il microfono ma non ti sentiamo però non ti sentiamo non ti vediamo neanche Ugo? non ti sentiamo per evitare di perdere tempo io gli telefono è al limite per l'intervento telefonico aspetta che lo chiamo vediamo se risponde perché così non accumuliamo ulteriore ritardo eccoci qua ciao Ugo eccoci qua non so se riuscivi a sentirci perché noi non ti sentivamo ora ti sentiamo sì perfetto allora poche cose partiamo allo so fondamentale affero cospito è detenuto per aver già ambizzato un dirigente di un'azienda nucleare condanna a 12 anni quello che è fatto ritardo all'inizio del decennio scorso ora è hanno chiesto l'ergastolo per una strage politica consumata con un attentato dimostrativo svolto di notte fuori dal centro abitato in un edificio in cui sono stati danni modesti alla struttura e neanche un ferito lì è assolutamente evidente che lo citava prima qualcun altro uno dei decenni fondamentali del diritto penale come dire la commisculazione tra reato e pena cioè tra condotta criminale e sanzione ed è tutto evidente che chiedere l'entaggio stativo per un reato effettivo pericolo è una sovradeterminazione una forzatura una brutalità assolutamente determinata in tutto questo quadro diciamo del penale si aggiunge l'aggravamento della condizione penitenziaria c'è delle modalità di consumazione della pena già attualmente con l'introduzione del quadro di giustamente l'avvocato che mi ha preceduto di poco mi ha ricordato bene come nell'arco del tempo il quadro di si era si è ferito e poi sviluppato nel quadro penale della gestione del diritto penitenziario bene ma nella zona del terrorismo italiano fatto lo ci ricordate prima tutti ricordate prima i cani di piombo la battaglia per signorelli c'era l'articolo del quadro b l'articolo 90 che un alcune forme leggermente minori del quadro b però comunque sanzionava in maniera gravissima e feroce i detenuti politici tra l'altro voglio dire c'era questa cosa proprio del totale derivazione sensoriale che si aveva fatto ad esempio tu facevi i collocchi familiari negli acquari c'era se tu neanche toccare tu dare una carezza a tua moglie al tuo marito al tuo figlio e così quindi come dire c'è una sorta di circolarità che in qualche modo nasce come applicazione alla mafia del vecchio articolo 90 che era di fatto svuotato perché sostanzialmente quasi tutti i detenuti politici da parte dei gruppi politici dopo grazie alla legge Gossini avevano cominciato nei primi anni 90 un percorso diciamo di recupero di inserimento di fuoriuscita dal carcere con le forme delle modalità che era stata determinata in qualche maniera da quella straordinaria attivata di giuristi di uomini di diritto e di giustizia che erano al senatore Cottini e il giudice Morgara scopparso qualche anno fa e che ha lasciato una traccia profonda prima ha fatto una riflessione al dato il quadro giuridico al di là diciamo della ricerca di vendita oggi vedo che gli avvocati osservano perfettamente che quella generazione di giudici sorguglianza quella generazione di magicati riformissimi liberali difensioni del diritto anche negli anni più corti degli anni di piombo avevano una loro modalità diciamo in qualche mania c'è stata una generazione che ha trasmesso saperi conoscenze approcci modi di gestire la problematica dagli anni di piombo consentendo alla grande parte la grande maggioranza degli anni degli anni degli anni degli anni degli anni di di ridurre insomma l'impatto dell'interno non ci sono stati episodi anche subitamente feroci con cutelli che viene di nuovo blindato perché dopo il primo ictus li trovano addosso una tira di acici che è una cosa assolutamente ritoria tutti che viene blindato e poi rilevano l'accesso ai social perché aveva partecipato a un dibattito con dei ragazzi del blocco superferro quindi in qualche maniera esistono ancora margini come di coppi di coda di piccole vendette di piccole cattivere nei confronti diciamo degli genotti simboli reali cospito in un'epoca in cui il fenomeno del terrorismo di estrema sinistra è assolutamente risolto appunto di questa regolità sociale e uno che sta sicuramente subendo una superponizione chiata appunto di vista della pena c'è da punto di esecuzione e quindi non ci dico che ringraziarmi con assoluto dello sociale impegno con i compagni di Italia che continuano come dire questo impegno per l'ultimo della terra e così via l'altro rispetto a politica di 5 minuti e me ne parlate 8 minuti quindi a questo punto mi dà vedere grazie un abbraccio grazie del contributo ecco adesso dopo aver ringraziato Ugo facciamo un altro collegamento telefonico con uno dei decani del giornalismo giudiziario italiano il mitico frank cimini pure lui aveva un problema di connessione così ci siamo accordati di chiamarlo e metterlo in viva voce eccoci qua ecco ti frank sei in diretta grazie grazie prego parla pure a te allora a proposito di carcere stiamo assistendo in questi due giorni da quando è accaduto il fatto a un'indegna cazzarra terroristica della politica dei giornali per quattro ragazzini scappati dal carcere Cesare Peccaria di Milano e con questi articoli che girano tutti intorno a dei comunicati emessi dai sindacati di polizia penitenziaria che sono in pratica delle associazioni di Aguzzini questo accade per quattro ragazzini che sono scappati dal Peccaria figuriamoci quello che succede sta succedendo con Cospito perché se trattano con feroce quattro ragazzini figuriamoci Cospito dove l'aggiornamento è che il suo avvocato Rossi Albertini Flavio Rossi Albertini oggi ha depositato il ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza in cui sostiene che l'applicazione del 41 acquisto del carcere duro è una violazione del principe della libertà di pensiero i tempi di decisione della Cassazione secondo l'avvocato sono incompatibili con le condizioni di salute di Alfredo Cospito che sono comunque al limite e che venerdì 29 sarà sarà visitato nuovamente dal dal medico di fiducia è una situazione è una situazione molto difficile che però non è la sola perché in questo paese ci sono 759 persone sottoposte al regime di 41 bis con la maggior parte dei quali se ne potrebbe fare a meno perché per la maggior parte di questi casi si va oltre la stessa razio della norma che dovrebbe impedire il collegamento con organizzazioni esterne che nel caso di Alfredo Cospito addirittura non ci sono dei dubbi che la federazione anarchica informale sia 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 ancora operante però il dibattito sul carcerario in questo paese denota una mancanza una mancanza di sensibilità perché sono decenni che passando da un'emergenza all'altra il carcere diventa non solo per il potere ma soprattutto questa è la tragedia per la maggior parte dell'opinione pubblica l'unica sanzione possibile ecco per cui secondo quello che si capisce per quanto riguarda il caso Cospito sperare che la Cassazione possa dar tolto al tribunale di sorveglianza di annullare l'articolo del carcere duro mi sembra a questo punto abbastanza improbabile Cospito è determinatissimo è determinatissimo a proseguire lo sciopero della fame per cui qui noi stiamo sfiorando stiamo sfiorando una tragedia pronto Frank ci senti ecco stiamo sfiorando una tragedia assolutamente ti sentiamo e niente per cui per cui non lo so se ci potrà essere qualche qualche intervento qualche intervento risolutivo perché ripeto ripeto il livello il livello del dibattito è pessimo sono pessime le leggi le leggi che si preparano non solo per responsabilità di questo governo perché a livello di giustizialismo e di panpenalismo i governi che l'hanno preceduto hanno fatto lo stesso e quindi diciamo che la la situazione è quasi disperata soprattutto per l'Ospito sì pronto mi sentite ragazzi sì scusate ok ho finito grazie Frank grazie infinite per il tuo contributo e un caro abbraccio ringraziando ancora il cronista giudiziario Frank Cimini adesso passerei la parola sono qua insieme a noi a due persone che noi a cui noi siamo molto legati che stimiamo molto cioè Sergio Delia e Elisabetta Zamparuzzi rispettivamente segretario e tesoriere di Nessuno Tocchi Caino che sono con noi che sono ci sono facendo il favore c'era in bombo c'era in bombo no mi ho spento mi ho spento a te Sergio a te Sergio sì sì mi sentite bene sì siamo un po' in questo collegamento on the road siamo in macchina come è evidente stiamo rientrando a Roma stasera festeggeremo la nostra presidente Rita Bernardini oggi è il suo compleanno non so se vi siete ricordati di farle gli auguri sì 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 perfetto bene allora io non so se vado controcorrente nel dire che certo almeno gli interventi che ho sfruttato finora sono tutti diciamo sul contesto e sul testo di una norma che tutti almeno noi collegati in questa tradizione di ringrazio di ringrazio Umberto di ringrazio anche Elisa per aver dato creato questa occasione di conoscenza siamo ripeto nel contesto e nel testo di una norma che tutti noi vogliamo sia superato perché nel senso dello stato di diritto però io ricordo sempre se dovessimo trovare un sinonimo di diritto ecco io lo individuo in un termine che è quello di uniti uno può compiere uno individuo può compiere diciamo i delitti più efferrati non stiamo parlando non siamo nel caso di Alfredo Cospito può compiere l'attentato alla sicurezza dello stato siamo nel caso di Alfredo Cospito per come quel reato è stato riqualificato e nella storia dell'area pubblica che è la prima volta che viene contestato ad un anarchico è un reato di questo tipo neanche coloro che hanno compiuto saccheggi stragi che hanno segnato la storia del nostro mese hanno avuto una qualificazione in termini di reato appunto contro la sicurezza però dicevo contro il distingo che vogliamo noi non siamo cospito noi non la pensiamo come lui ha compiuto qualcosa che è lontano da noi noi siamo non violenti eccetera io invece voglio difendere l'uomo cospito per come oggi lui tiene configurato cioè come un mostro quindi non è soltanto una questione di noi di 41 bis cioè di quella norma che istituisce legittima in Italia siamo nel frentennale della nascita di questo regime di emergenza che ha portato a tanto di che ha il caso sergio stiamo perdendo il segnale non ti sentiamo più stavamo perdendo il segnale c'è stato qualche secondo di silenzio poi ti sentiamo bassissimo adesso adesso si adesso è tornato ok allora dicevo che siamo nel internazale della dichiarazione di guerra e nella inaugurazione lo stato di emergenza è diventato un regime perché una cosa di dura per 30 anni non è più neanche lo stato di emergenza è diventato un regime e come tutti i regimi e ora anche che sia posta che sia in regime dell'italiano del 41 mese dell'accaso lo stativo come quello italiano il regime il regime politico dicevo è il limite diritto equivale a perdere lì lo stato si deve porre un limite proprio nel momento in cui deve affrontare il più terribile dei pericoli la più seria delle delle minacce se no non vedo la differenza che c'è tra il pericolo la minaccia e lo stato che deve assicurare la sicurezza non è un gioco di specchi quanto più terribile la minaccia tanto più è terribile lo stato la terribilità della pena e dei recimi è qualcosa che le cittima anche la terribilità del reato e del e del quindi dicevo l'uomo cospito in carcere ora non c'è non c'è il reato c'è l'uomo e io lo difendo perché difendo l'umanità di Alfredo Alfredo non prendo le distanze chiaro io sono un non violento ho fatto l'esperienza della violenza e ho capito che con quel mezzo di lotta politica quello che avrei determinato che avrei prefigurate un fine opposto a quello per cui io avrei ho deciso di notare anche con quel metodo quindi l'uomo cospito che si trova al 41 bis è l'uomo della pena che noi dobbiamo come dire salvaguardare perché nei suoi confronti non ci sia lo Stato che integrata al livello del male che vuole che vuole che intende combattere io non conosco il processo non so cosa significa la riqualificazione di un reato so che forse è qualcosa che non è mai successo soprattutto per un anarchico nella storia nella storia di questo di questo paese l'uomo cospito quello che noi vogliamo sia da non sia toccato proposto al nostro nessuno di questo chiudo dicendo e vi rivolgo dal freddo c'è un modo per mutare lo Stato delle cose e quindi anche del potere violento a proposito di anarchia no di un sistema un sistema già sarebbe una confezione interna con il concetto di anarchia ecco di una concezione di uno Stato che va come dire minimizzato al punto da scomparire c'è un modo che per poter raggiungere anche questo obiettivo tra piccolette anarchico è quello di non essere noi Stato di non usare metodi da Stato di non usare la violenza io quello che vi sento dire è davvero un appello che ti faccio un segno riesci ad ascoltarti o quando riesci a riflettere è l'appello che io feci a Cesare Battisti no quando lui decise di attuare contro il suo regime di isolamento lo sciopero della fame fino alla morte no Alfredo come disse no a Cesare lo sciopero della fame se non violento è fino alla vita è per la vita non fino alla morte e quindi per la tua ecco se tu cambi il registro usando il termine di vita invece di morte e di dialogo invece di oltranza probabilmente in questo modo riuscire a ottenere a conquistare il tuo sogno dell'anarchia cioè di uno Stato che viene disarmato e la forza gentile della non violenza che disarma il più intervento e il più violento dei poteri grazie grazie di 22 minuti provocato da un incidente a 7 chilometri straordinario intervento guardati veramente veramente ti ringrazio di cuore grazie grazie grazie